Salve a tutti, ben trovati. Ci accomodiamo dove ci sono le sedie. Qui alla mia sinistra c'è il tavolo per chi volesse fare l'iscrizione alla nostra associazione consumatori Acumarche. Allora, cominciamo con i ringraziamenti. Anzitutto ringrazio il dottor Paolo Ulisano che è qui alla mia destra, che è venuto oggi a portarci la sua testimonianza, la sua esperienza e la conoscenza che ha maturato sul campo in questi mesi. Che cos'è il Covid? Cosa sono le cure? Quali sono le terapie da adottare, gli errori da non commettere, le buone pratiche che ciascuno di noi può mettere in campo prima e durante l'eventuale malattia. Ringrazio i volontari del Comitato Ora Basta Marche e Ora Basta Italia che hanno allestito la sala, Chiara, Beatrice, Alfredo, che sono anche tra l'altro Alfredo e Beatrice, cofondatori, insieme a me e a Marco Gambini in questo comitato. Il comitato è nato un anno fa, a ottobre 2020, subito dopo la seconda ondata di provvedimenti di verticili antidemocratici che ha vassuto il nostro Paese, mi riferisco all'impliciere dell'autunno 2020. Questo comitato è nato proprio a Cittanova, la mia città, con una grande manifestazione che si è svolta il 27 ottobre dell'anno scorso, con più di 1200 persone in piazza, per lo più partite IVA, titolari di ristoranti, palestre, bar, le attività maggiormente colpite da quei PCM che dall'oggi al domani percudevano loro la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, professionale e di portare a casa quel reddito che dovrebbe essere il diritto di ciascuno di noi. Da allora all'oggi la situazione è peggiorata, allora eravamo pochi in piazza a lottare, a fare le azioni di obbedienza costituzionale, come la chiamiamo noi, cioè di disobbedienza civile in ottemperanza a quelle che sono le norme e i principi della nostra Costituzione. E se all'epoca erano colpite soprattutto le piccole, medie e piccole imprese di alcuni settori, appunto la ristorazione, bar, ristoranti, ma anche del turismo e dello sport, poi via via, questo che sembra sempre più essere un regime, ha colpito, pezzo dopo pezzo, altre categorie. La categoria di giovani, di bambini, di studenti, costretti a delle situazioni in ambito scolastico che due anni fa avremmo giudicato tutti, tutti, non solo noi che siamo qui dentro stasera, ma anche chi è fuori, assolutamente disumani. Poi la categoria di sanitario, dei lavoratori della sanità soggetti ad un obbligo, ad una pratica, ad una violazione del proprio corpo, che veramente fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, potesse essere posto come condizione per poter svolgere la propria professione. Dopodiché è toccato alla categoria del lavoratore della scuola, della scuola, poi dei trasporti, fino ad arrivare a quello che si preannuncia essere a tutti gli effetti un meccanismo di spedatura potenzialmente definitivo, a cui noi come comitato, come associazione, come volontari ci stiamo ponendo con tutte le forze, ossia quello che lascia passare per il posto, a tutte le categorie di lavoratori. In questi mesi il nostro comitato, insieme all'Associazione Consumatori Utenti, di cui Marco Gammini Rossano, che è qui alla destra del professor Guglisano, è presidente per la Regione Marche, abbiamo dato supporto e sostegno a tutte queste categorie, tanto le partite IVA e i lavoratori autonomi, i piccoli e ben riprenditori, quanto ai lavoratori dipendenti di ogni settore, di ogni comparto. L'abbiamo fatto grazie ai volontari, che si sono spesi gratuitamente, hanno speso il loro tempo, le loro energie, le loro intelligenze per dare supporto, indicazioni, aiuto, quanto con i nostri avvocati, che allo stesso modo gratuitamente hanno aiutato tanto, vedo alcuni che annuiscono, perché si sono interfacciati con delle persone d'oro, che hanno messo la propria professione, le proprie competenze a disposizione dell'altro, come è bene fare in una vera comunità, perché questo stiamo costruendo noi, noi non stiamo lottando solo contro un sistema e un nemico molto più grande di noi, ma stiamo costruendo, ricostruendo, dalle fondamenta, come si fa con un edificio, mattone dopo mattone, una nuova comunità, una società nella società, fatta di buoni principi, di buone azioni, di energie positive. Oggi siamo qui per mettere un altro importante mattone in questo nostro edificio, insieme al professor Paolo Gullisano, persona d'oro che io ho imparato a conoscere in questi giorni, stamattina abbiamo fatto un altro bel convegno a San Benedetto del Tronto, con il comitato di Ascoli Piceno e San Benedetto, ci è stato dato anche lì del filo da torcere, perché ieri la DILGOS ha chiamato una delle organizzatrici ben quattro volte, facendo pressione per sapere dove si sarebbe svolto il convegno, chiedendo di fare una comunicazione, come se si trattasse di una pubblica manifestazione, e chiedendo l'ontemperamento di tutte le regole sul vero di pass, su questa tessera verde. Ovviamente noi non abbiamo ceduto, e grazie alla nostra rete di attività amiche, questo è un altro progetto che il comitato sta portando avanti, una rete di attività economiche, di persone che la pensano allo stesso modo, che si occupano tutte al sistema e fanno rete tra loro, non solo a livello sociale, o volontaristico, solidaristico, come ho detto poco fa, ma anche a livello economico. E quindi grazie alla nostra rete abbiamo spostato la sede dell'evento da un'altra parte, nel giro di pochissime ore, ci siamo riorganizzati e abbiamo fatto un bel convegno insieme a Paolo. Vi presento Paolo Grisano, veniamo a due, Paolo è medico, epidemiologo, esperto di igiene e medicina della prevenzione. È anche docente universitario, ha insegnato per qualche tempo all'università la storia della medicina, di cui è molto esperto. Le sue competenze non si esauriscono nell'ambito della medicina, ma vanno ben oltre, Paolo è anche uno scrittore, è un saggista, ha scritto romanzi fantasy, genere di cui è anche critico, cultore, esperto e critico. Ha collaborato, collabora tuttora con molte riviste, molte testate, è stato anche il responsabile di un programma radiofonico presso l'emittente radio mater. Ecco, non posso esaurire con una breve presentazione la descrizione di Paolo Grisano, perché, insomma, lo capirete da soli, è una persona che è sulle stesse nostre lunghezze d'ora, è in risonanza con noi in tutto e oggi è qui per renderci participe delle sue esperienze, delle sue competenze. Infatti Paolo viene dalla Lombardia, una delle regioni, come sapete, la zona più colpita all'inizio, nella prima ondata, dal Covid e è stato tra quei medici che, senza lasciarsi intimorire, senza cedere ai WICTAT superiori che volevano un protocollo, volevano una distanza anche per loro professionisti dal malato, uno di quei medici che andava invece a casa di malati a praticare quelle cule... a praticare quelle cule che ogni medico dovrebbe prestare al proprio paziente, di persona, in presenza, visitando il paziente, non affidandosi a dei protocolli calati dall'alto, uguali per tutti, che non tengono conto delle peculiarità della persona, anche la specificità dell'individuo. Non aggiungo altro, lascio la parola a Paolo Grisano. Grazie Paolo. Ringrazio Marinelli per questa introduzione così lusinghiera, spero quindi di essere degno di questa presentazione. e innanzitutto vi ringrazio davvero di cuore per essere qua così tanti in una domenica pomeriggio e immagino che se siate qua è perché appunto cerchiate come molti, non tanti, in questo momento chiedono, cercano, vogliono verità su quello che sta accadendo su questo processo in atto dal febbraio 2020 che è un processo potremmo definirlo tranquillamente rivoluzionario. Stiamo vivendo in una rivoluzione, una rivoluzione che vuole cambiare profondamente non solo le strutture societarie e non sono io a dirlo perché sono loro stessi su giornali mainstream come addirittura il Times dell'anno scorso che titolava una copertina The Great Reset Il Grande Reset un tempo si diceva rivoluzione pensate nel corso della storia abbiamo avuto dei momenti cruciali critici a tutti che iniziavano per R il rinascimento la riforma la rivoluzione quella per eccellenza d'ottobre adesso abbiamo un'altra R che è la R di Reset è un termine apparentemente più soft più digitale no? sa molto così di cambiamento rimettiamo a posto il computer resettiamo eccetera ma che in realtà potrebbe portare anche degli sconvolgimenti sta portando degli sconvolgimenti profondi del nostro modo di vivere del nostro modo di lavorare o addirittura di non poter lavorare ma su questi temi chiaramente su questi aspetti del Grande Reset io lascio a chi ne sa più di me in campo economico in campo sociale eccetera io vi parlerò invece del Grande Reset sanitario che è quello che stiamo vivendo io come medico sono anche francamente in imbarazzo nel vedere appunto mai avrei immaginato che la mia scienza anzi la mia arte la mia medicina non è una scienza esatta la medicina non è come la fisica come la matematica la medicina è una scienza empirica ma è soprattutto o perlomeno lo è stata per duemila anni un'arte l'arte del prendersi cura del prossimo e questo e questo sta e mai avrei immaginato che la mia arte potesse diventare invece come sta diventando un instrumentum reni il braccio armato di un di un potere che vuole appunto cambiare radicalmente la società ma vuole cambiare radicalmente anche l'uomo questa è una delle rivoluzioni la rivoluzione forse più preoccupante spaventosa perché vuole arrivare e vedremo come ad un cambiamento dell'uomo dell'essere umano allora mai avrei immaginato perché appunto la medicina per come l'ho studiata io per come ho sentito io fin da giovane una sorta di chiamata diciamo anche una parola grossa ma sì poi c'è una vocazione a fare questo lavoro a occuparmi del prossimo a cercare di lenire le sofferenze del prossimo ecco mai avrei immaginato che poteva diventare invece un modo per infliggere sofferenze eppure è quello che stiamo vedendo partiamo proprio da come è stata coinvolta la medicina in tutto questo perché qualcuno ha parlato anche di dittatura sanitaria stiamo vivendo una dittatura sanitaria o meglio una dittatura in nome della salute e dice la salute è un bene importante il bene super non è il bene assoluto c'è qualcosa di più importante anche della della salute che è la libertà che è la verità dell'uomo quando queste cose sono offese è più importante che una mera salute in senso quasi proprio solo di sopravvivenza da un anno e mezzo in qua quasi due ormai anzi vediamo invece persone che accettano ogni cosa in nome di che cosa non tanto davvero della salute del benessere che poi appunto è qualche cosa di molto concreto e anche molto relativo perché alla fine ecco di tutti qualche malattia ce l'abbiamo l'utopia del benessere assoluto per qualcosa di molto pericoloso era un un enunciato dell'OMS anni fa negli anni 90 l'organizzazione mondiale della salute aveva lanciato questo questo proclama salute per tutti nell'anno 2000 obiettivo evidentemente mancato obiettivo utopistico e guardate che le utopie ecco sono come dire delle proiezioni della della fantasia dell'esperanza sono a volte anche molto pericolose le utopie politiche in azione hanno creato i mostri ideologici del XX secolo e poi siamo di fronte anche a una utopia salutista ingannevole cioè la salute bene assoluto che deve essere conservata e quindi l'importante in questo momento da un anno e mezzo è sopravvivere a tutti i costi anche a costo di cedere quote importanti di libertà individuali di diritti perché l'importante è sopravvivere abbiamo assistito qualche cosa di assolutamente inedito io mai io ho 62 anni ecco tra l'altro abbo una piccola parentesi vedo qua che più o meno molti di voi sono della mia della mia età su per giù vedo evidentemente padre di famiglia madre eccetera non vedo non vedo terroristi non vedo black blocs non vedo ecco quello che come dire oggi si stiamo cercando di costruire una narrazione demonizzante dell'avversario forse anche perché siamo giustamente qui a parlarci non siamo in piazza io in questo momento come dire viste anche queste contingenze viste certe strategie del potere di fido delle piazze quindi è molto meglio fare come hanno fatto gli organizzatori di questa manifestazione essere qui seduti a parlarci a cercare di capire a cercare in qualche modo anche di informarci per poter affrontare meglio una situazione oggettivamente difficilissima quindi dicevamo torniamo al nostro discorso della salute sì come bene assolutamente ma non come un bene che giustifichi il totale il totale cedimento sul piano dei diritti dei diritti civili dei diritti umani dei diritti costituzionali eccetera però tutto questo lo stiamo vivendo e perché? perché appunto c'è questa situazione di emergenza che è un'emergenza di fronte ad una malattia virale un virus pensate che fino a pochi anni fa il come fino a due anni fa le malattie infettive che sono le malattie trasmissioni rappresentavano nell'ambito delle cause di morte lo 0,5% dei morti si muore di tutt'altro i morti per esempio per tumori sono in Italia ogni anno qui di 250.000 non è catombe non è anche questa un'emergenza sanitaria però appunto non c'è nulla che faccia più paura della malattia infettiva della malattia trasmissibile Beatrice ricordava io così ho la passione dello scrivere anche su aspetti di storia della medicina nel 2006 nel 2007 quindi 15 anni fa in tempi non sospetti scrisse un libro che adesso si trova solo nei book un libro che si chiama Pandemia perché io rimasi molto colpito da quello che era avvenuto nel 2005 allo in cui si era sparso il terrore era stato sparso il terrore per l'epidemia incombente anzi una pandemia cioè un'epidemia mondiale incombente che avrebbe dovuto arrivare non arrivò mai che era della viaria ricordate il virus l'influenza dei polli l'influenza dei polli veniva detto veniva proclamato veniva comunicato sui media sarebbe passata c'era il salto di specie in arrivo avrebbe colpito noi avrebbe fatto quantificavano addirittura i milioni di morti che ci sarebbero stati non ci fu nulla non arrivò mai così come non arrivò dopo qualche anno nel 2009 l'influenza suina anche qua vi ricordate una pandemia annunciata poi in questo caso sarà stato fatto anche un passaggio ulteriore nel 2005 per la viaria era stato solo creato paura sparso terrore non c'erano state altre emozioni nel 2009 magari qualcuno se lo ricorda era stato anche preparato un vaccino perché avevano detto arriverà arriverà la suina sarà devastante prepariamoci prepariamo guarda le case farmaceutiche sono pronte ci preparano il vaccino ci purano poi ovviamente non arrivò mai anche questa fu una minaccia fantasma l'epidemia non arrivò mai in compenso ci ponono dei grossissimi problemi anche di logistica nello smaltire centinaia di migliaia di dosi inutilizzate però evidentemente anche questo era stato forse un test vediamo cosa succede vediamo se succede se spardo la paura poi vediamo cosa succede se introduco un ulteriore step un altro passo ancora preparo eccetera poi sono passati molti anni non succedeva niente malattie infettive continuavano a essere quelle che conosciamo quelle che curiamo quelle che anche io ho curato io ho lavorato in servizi di prevenzione delle malattie infettive le malattie infettive che dovevamo tenere d'occhio c'erano l'epatide C la tubercolosi che da noi era sparita ma ritornata anche con l'arrivo dei migranti che sono molto spesso il 45% dei casi positivi a TB insomma questi erano le nostre erano quello che dovevamo affrontare e il resto scorreva con problemi di salute che sono appunto i tumori malattie cardiovascolari eccetera eccetera poi è arrivata l'epidemia per eccellenza the big one la chiamavano così anche gli epidemiologi negli anni scorsi continuavano a dirlo continuavano a rinunciarlo e io lo segnalai in quel mio libro dicendo guardate che c'è questa come dire c'è questa pressione psicologica io rimasi anche molto colpito allora del fatto di quanto facesse paura l'idea della malattia trasversiva perché rispetto alla malattia cronico-degenerativa ci sentiamo tutti tranquilli sì succede ma succede agli altri o anche altre malattie altre cause di morte ogni anno ci sono in Italia 7000 morti per incidenti stradali ma tocca a quelli che sono imbranati io sono una specie di michilaura a nessuno può capitare sempre agli altri quelle che non sono capaci eccetera a noi no quelle malattie cardiovascolari ma sì è vero io ho dei fattori di rischio lo vedete sono cicciotello però magari da domani mi metto anche in dieta oppure fumo sì però tra una settimana smetto di fumare e sono a posto insomma adesso la malattia cardiovascolare o la malattia cronico-degenerativa avevo sempre una specie di sensazione di essere immuni ma verso la malattia infettiva ecco la malattia infettiva ha un impatto psicologico terrificante perché la malattia mi viene trasmessa e non è colpa mia io per l'amor di Dio sono bravo e faccio tutto quello che devo fare ma me la trasmette un altro è l'altro è l'untore che me la trasmette e io purtroppo la prendo e quindi su questa come dire su questi aspetti anche psicologici su cui hanno lavorato molto a livello di certi poteri forti che sono quelli che stanno appunto adesso conducendo il gioco della pandemia e apro una tutta la parentesi ma mi sembra significativa su questi aspetti psicologici la il vertice italiano dell'azienda Pfizer che fa i vaccini voi pensate che questa dottoressa sia una specialista in virologia no specialista in epidemiologia malattia infettiva e specialista in psichiatria questa è la guida della Pfizer italiana quindi qualcuno che conosce molto bene gli aspetti come dire certi tipi di aspetti anche legati alla comunicazione legati all'impatto legati a quei meccanismi psicologici profondi che fanno scattare determinati allarmi che fanno scattare diversi comportamenti eccetera quindi dal febbraio del 2020 dalla fine febbraio è iniziata una narrazione catastrofista come se fossero appunto in un romanzo utopistico distopico tra l'altro ribaltando immediatamente quello che era stato l'atteggiamento del governo nei primissimi tempi io fin dall'inizio dell'epidemia in Cina mi ero molto preoccupato perché appunto ricordavo dei precedenti come ad esempio l'epidemia di SARS del 2002-2003 un'epidemia che poi fu anche ben contenuta e poi ci torneremo su questa epidemia di coronavirus del 2002-2003 ma appunto io ero preoccupato e vedevo invece un atteggiamento incosciente il governo Conte del suo ministro della salute eccetera e diceva no tanto qua non arriverà mai e poi comunque siamo preparati poi invece questa narrazione cambiò completamente e iniziò invece una narrazione catastrofista quasi davvero che ci fosse stato un abbassamento delle difese deliberato per dire tranquilli non succede niente è roba da Cina e c'erano tutta una serie anche di battute di cose di filmati che giravano e peridevano i cinesi qui siamo tutta un'altra cosa e invece è arrivata e poi è stata al contrario ingigantita ed è stato presentato quello che stava succedendo come una una catastrofe soprattutto il virus responsabile è stato descritto come un qualcosa di mostruoso una sorta di alieno una sorta di peste medievale ritornata in pieno ventunesimo secolo ma è proprio così questa narrazione è servita ad incutere nella popolazione un terrore un vero e proprio terrore della malattia come mai si era visto cioè io ho visto nel corso della mia carriera più che trentennale tante persone ammalarsi e tante persone anche che purtroppo si sono sentite dire si sono sentite dare le diagnosi in fausti quante persone ho conosciuto con tumori e quelli hanno portati a morte ma mai io ho visto anche persone con brutti carcinomi vivere col terrore con questo terrore di morire di soffrire eccetera semmai io spesso ho visto una grande dignità delle persone malate e magari una preoccupazione non tanto per se stessi se c'è vabbè sì lo so devo morire ma magari la preoccupazione per chi resta il marito la moglie i figli eccetera qui invece un terrore spaventoso individuale per se stessi oddio se mi ammalo se finisco in rianimazione se muoio eccetera quindi questo tipo di terrore mai visto in medicina pur di fronte a malattie anche gravi questo paura questo terrore era giustificato io non vi faccio faccio parlare solo i numeri non vi faccio con me perché appunto una malattia noi di una malattia di ogni malattia valutiamo non soltanto la mortalità che è il tasso di morti sulla popolazione eccetera ma il dato più in poche spesso magari viene anche detto eccetera ma per capire quanto è grave una popolazione è una malattia c'è un altro tipo di rapporto di tasso che è il tasso di letalità che cos'è la letalità la letalità è un aggettivo che è chiaro una cosa letale mortale eccetera ma è anche un dato come dire statistico ben preciso la letalità è il numero di morti per il numero di ammalati quindi ho 100 ammalati quante me ne muoiono ci sono delle malattie tumorali che hanno un tasso di letalità spaventuro cioè i carcinomi hanno una letalità del 92% quasi non si scampa ci sono malattie più leggeri meno letali per esempio l'influenza stagionale determina una letalità del 0,25% 0,2-0,3 appunto l'influenza ha questo tipo di letalità anzi 0,2-0,5 qual è la letalità del covid? secondo qualche personaggio che non è un medico dovrebbe essere quasi del 100% se avete sentito quel banchiere prestato alla politica che si chiama Mario Draghi nella sua conferenza stampa di agosto quando annunciò il Green Pass per giustificare il Green Pass disse ma se tu ti prendi il covid ti ammali finisci in rianimazione e muori come una specie di passaggio obbligato ti ammali rianimazione terapia intensiva intubato muori quindi per il signor Mario Draghi la letalità del covid sarebbe del 100% lo prendi ti ammali muori qual è la realtà? non quella che cioè numeri cosa ci dicono? che su 100 persone che si ammalano 3 muoiono e 97 moriscono quindi il tasso di letalità è del 3% è tanto o poco? beh fate i confronti con quelle altre patologie che vi ho detto prima ma tenete conto anche di un'altra cosa che è importantissima 3% è poco? per me comunque è già tanto per me come medico ma non utopisticamente ma come scopo della mia professione è comunque andare il più vicino possibile nello 0% era possibile ridurre questo 3% ripeto e c'è un dato che ci dovrebbe un attimino far respirare perché appunto io ho curato e guarito centinaia di persone e tante volte mi sono sentito davvero oggetto di una gratitudine che ho detto ma no ma non ho fatto niente perché comunque magari vedete comunque 97 guariscono non è che ho fatto la magia però lo stesso cioè per molte persone che hanno l'idea che hanno percepito comunque anche la difficoltà di venire fuori la malattia quando non è curata questo determinato questa sensazione di essere stati salvati da qualche cosa come dire che dava quasi la certezza della morte ma non è così ma allora era possibile ridurre questo 3% che non è appunto in ogni caso il 100% di draghi certo era possibile io quello che ho appunto sperimentato fin dagli inizi cioè come prima mi hanno presentato io vivo lavoro in Lombardia nel nord della Lombardia esattamente abito a l'ecco quindi a 30 km da Bergamo eccetera zone non rosse rossissime ma zone ad alta densità di popolazione anche zone anche ad alta come dire scambio commerciale con la Cina proprio molto probabilmente da noi il virus è arrivato anche prima di quando non è stato riconosciuto ufficialmente questo spiega anche la densità abbiamo città fortemente popolate e così via ma i numeri i numeri così alti i numeri così alti di morti così alti che però appunto rappresentano sempre il 3% perché era possibile evitarli sì ed è come dire da una parte mi fa piacere da medico dirlo che si potevano evitare però dall'altra parte ho un come dire un dolore una rabbia nel dire che non è stato fatto quello che continua ad essere fatto non si poteva salvare molte più vite se non si fossero seguiti praticamente dei protocolli di abbandono terapeutico per anni abbiamo sentito parlare di accadimento terapeutico io francamente non ho mai visto l'accadimento terapeutico sui malati anzi molto spesso ma in questo caso noi abbiamo assistito come in un esperimento purtroppo questo vi dicevo c'è un grande reset anche della medicina abbiamo assistito all'abbandono terapeutico al non curare e paradossalmente proprio da un episodio di abbandono terapeutico è iniziato il mio lavoro di medico che cura e vi dico vi porto la testimonianza dell'episodio io facendo nella vita un altro lavoro occupandomi soprattutto di prevenzione non ero nelle corsie non ero in ospedale lavoro sul territorio occupandomi appunto di prevenzione e tra l'altro occupandomi da 4 anni anzi 4 anni che sono finiti nei giorni scorsi perché nei giorni scorsi mi sono licenziato e adesso inizierò tra una settimana un nuovo lavoro mi occupavo in particolare nell'ambito della prevenzione di vaccinazioni quindi sono anche un esperto di vaccinazioni cosa che in questo momento mi è molto utile per giudicare poi appunto parleremo anche di vaccini ma vi speto io non ero sul campo non ero nelle corsie eccetera però da medico dicevo qui se posso fare qualcosa lo faccio volentieri e per prima cosa mi sono documentato vediamo è impossibile che non si possa fare niente che non si possa curare possibile che nel 2020 si debba morire così come mosche per la polmonite e allora sono andato a documentarli e avendo anche il senso della storia cosa che è importante appunto prima Beatrice ricordava tra alcuni anni ho insegnato all'università l'avicottero di Milano la storia della medicina la storia del magistra vite è vero il maestro ti insegna e allora sono andato a mi sono domandato nel 2002 ricordandomi che come vi dicevo prima nel 2002 2003 ci fu un'epidemia di SARS Cov 1 la prima epidemia di SARS SARS è una sigla inglese che vuol dire insufficienza respiratoria acuta cioè questa è la manifestazione clinica che cosa determina questa sindrome cioè una serie di sintomi di semi eccetera che poi conducono all'insufficienza respiratoria acuta un virus il coronavirus noi conosciamo il coronavirus negli anni 60 sono stati scoperti negli anni 60 sono virus innocui è il virus del raffreddore ma appunto nel 2002 arriva uno strano coronavirus mutato grave che provoca polmoniti ci fu anche un grande medico Carlo Urbani che ha studiato perso la sua vita allora c'era parcheggiando tra l'altro quindi ma il virus venne sconfitto in circa come più di un anno arrivò all'inizio del 2002 alla fine del 2003 era già scopparso come altre epidemie del passato la spagnola la terribile spagnola spesso evocata questa influenza che fece nel nel 1918 19 70 milioni di morti arrivò all'inizio del 18 alla fine del 19 era già sparita sparita e non tornò mai più con me appunto non era più tornata la SARS ma appunto l'anno scorso SARS COV-2 cioè da un secondo coronavirus e allora mi sono fatto una domanda molto logica ma nel 2002 quando ci furono in tutto il mondo poche migliaia di morti come avevano fatto a combatterla affrontarla sconfiggerla con farmaci e andai a vedere per curiosità per capire di più che farmaci avessero usato e c'era tra i farmaci usati un farmaco usato da tempo conosciuto da tanti anni l'idrossico e l'orochina che era stata usata per la malaria poi per la triteraumatoide eccetera tant'è che c'era su una prestigiosissima rivista scientifica inglese The Lancet c'era un articolo che si intitolava Old Trucks for New Viruses cioè vecchi farmaci e quello che era un vecchio farmaco per nuovi virus e spiegava l'efficacia di questo farmaco e io ho detto bah aspetta però e mi sono detto dovesse succedere magari potrei curarmi così poi invece avvenne questo episodio ed è iniziata anche la mia attività di medico delle cure e le terapie domiciliari mi chiamò un sabato mattina una signora che conoscevo e mi dice dottore ho la mamma di 79 anni cardiopatica già ha un intervento al cuore c'era la mamma da due giorni che la mente ha dei dolori al petto probabilmente non so penso che sia al cuore c'era visto che è già una cardiopatica nota però ho paura a chiamare l'ambulanza perché poi lo vorrei che mi finisse in un percorso covid perché non sai dove porta e io gli disse ma no signora non chiami l'ambulanza la mamma sta abbastanza bene si si in piedi eccetera allora lei prenda la mamma prenda gli incartamenti dei precedenti ricoveri dei due interventi fatti al cuore la porti in pronto soccorso e vedrà che poi la seguiranno capiraggio eccetera cioè non è che c'è una sola malattia poteva essere anche l'inizio dell'infarto eccetera faccia così le consiglio è così dopo due ore la signora mi chiama dal pronto soccorso con una voce terrificante mi dice portone ascolti io ho fatto come ha detto lei l'ho portata ma non hanno fatto il cardiogramma hanno fatto per prima cosa una radiografia dei polmoni e mi dico arrivato e mi ha detto guarda signora purtroppo polmonite intestiziale bilaterale quindi covid la diagnosi la forma infarto dicono ma polmonite bilaterale quindi purtroppo è così e non c'entra da fare come non c'entra da fare il signora è covid ma ha capito o no e non c'entra da fare in tre giorni la mamma se ne andrà però stia tranquilla le daremo la morfina l'accompagneremo dolcemente morirà senza soffrire allora questa signora mi dice questo mi racconta questo e a me sembrava allora uno la sensazione di stare parlando con una persona che aveva ricevuto una sentenza di morte no una condanna a morte diceva condannata non possiamo fare nulla l'accompagniamo però e dall'altra parte mi sembrava impossibile proviamo a combattere proviamo a fare qualcosa non puoi non fare nulla solo accompagnare e preoccuparti come prima e unica preoccupazione che non soffra e tra parentesi in seguito altre volte mi sono sentito dire questo cioè è sì lo zio è morto ma non ha detto che non ha sofferto ma chi se ne frega preferisco soffrire che vivere no? che sopravvivere si paga un piccolo prezzo in termini di sofferenza cura eccetera ma vivere no? non ha sofferto allora quindi questo fu quello che le dissero dice dottore cosa faccio? e io non ebbi dubbi le disse guardi signora firmi e la porti a casa la porti a casa la curo io io non le prometto niente però se va male tanto l'avevano già condannata a morte per cui non abbiamo niente da perdere se va male però perlomeno muore a casa muore tra le braccia dei suoi cari se invece va bene mi andò bene questa signora è viva ancora oggi è viva e vegeta e guarì nell'arco di una settimana che cosa gli diedi? cioè la curai e la guarì con 20 euro tra idrosi-glorochina blu-fen ebarina e l'antibiotico azicromicida e un po' di ossigeno appunto per mantenere alta la saturazione e avere il tempo di agire ai farmaci guardate questa cosa mi fece capire due aspetti importanti uno che il virus non era un nemico invincibile che si poteva affrontare e che si poteva vincere che si poteva soprattutto curare curare cioè prenderti cura questo è lo scopo della medicina prendersi cura capite che c'era un abbandono terapeutico una rinuncia posso fare niente muore le rendo la morte non dolorosa ma non faccio nulla io diedi questo alla signora Guarini ma l'altra cosa inquietante che come dire mi fu chiara da questo episodio è che evidentemente allora o c'erano degli errori da parte del sistema sanitario cioè eravamo di fondo un sistema sanitario che rinunciava a curare no? oppure eravamo davanti a un disegno preciso di tipo diciamolo pure eugenetico quella era una forma di eutanasia ma c'erano sei comunque sei comunque fragile ed esistevano esistevano come dire dei punti di riferimento non dei protocolli scritti no? però c'erano dei punti di riferimento che erano dei documenti anche della società italiana di anestesiologia che diceva in caso di iperaffollamento bisogna fare selezione parlavano di selezione tu sì tu no su quali criteri? paradossalmente è un criterio anche di di gravità che è esattamente il contrario se ho una persona grave una persona grave prima cura quello più grave ve lo devo salvare se ho una persona anziana è una più giovane mi do da fare per salvare il lanzato che è più a rischio invece no qua era una sorta di selezione non ti ammetto neanche ad un ad una terapia più forte ma non dico la terapia intensiva ne manco le terapie ad avere un antibiotico ad avere io poi ho avuto conferma che questo episodio non era isolato era capitato a me di venirne a contatto in questo modo ma poi ho scoperto che è stata una pratica ampiamente diffusa una selezione e quindi un'assenza terapeutica e allora mi sono drammaticamente da una parte è stato un episodio duplice da una parte è anche come dire la soddisfazione di scoprire che si poteva fare qualcosa no dissi ma allora si può fare avete presente quell'episodio di Frank Steynior dice si può fare era possibile era possibile farlo infatti per me fu quasi professionalmente un momento esaltante ma allora ci provo lo faccio adesso lo faccio anche con altri se ha funzionato con lei vediamo con qualcun altro e continuava a funzionare però dall'altra parte capito che fu un momento drammatico dire appunto la medicina si sta trasformando si stanno si stanno stabilendo delle delle regole delle procedure i famosi protocolli che hanno preso il posto della medicina che cura da 2000 anni la medicina è curarsi chinarsi sulla persona sofferente e cercare di fare tutto il possibile per alleviare la sua sofferenza qui invece siamo di fronte ad una medicina che fa selezioni che mette in atto solo protocolli e ai protocolli ti devi attenere punto e basta e anche in questo appunto lo Stato il ministero sanitario diede protocolli cioè linee guida in cui tu ti devi in cui tu ti devi veramente infilare con i binari di un treno e percorrirli senza sgarrare per cui ci furono anche appunto episodi di censura adesso no censura sul mio episodio adesso non raccomando ma episodi di impedimento di fare anche diagnosi perché la terapia corretta deriva dalla diagnosi corretta per esempio ci fu una intimidazione perché quasi mafiosa sulle linee guida emanate dal ministero della salute che dicevano le autopsie sono fortemente sconsigliate infatti noi abbiamo contestato dicendo erano state vietate e allora ci hanno detto no no non l'abbiamo mai vietato nessuno è vero non c'era scritto però è peggio ancora nel momento in cui dice fortemente sconsigliato come dire caro medico ti sto dando una chiara indicazione è proprio una specie di consiglio che non puoi rifiutare modello proprio padrino però qualcuno disubbidì e fece le autopsie e venne fuori dice apri ci si rese conto che il covid non è semplicemente anzi non è affatto un virus respiratorio ma è un virus infiammatorio aprendo i cadaveri dei poveri morti si vide che appunto che c'erano situazioni di gravissimi stati infiammatori e di stati trombotici cioè formazioni di trombi che vanno i trombi sono quelle formazioni piastrine che vanno a chiudere le arterie e quindi non passa il sangue e se queste arterie che vanno a chiudersi a causa dei trombi sono le arterie polmonari tu puoi pompare dentro tutto l'ossigeno che vuoi nei polmoni in tubaggio ma non c'è scambio l'ossigeno non entra nel sangue non va a errorare i tessuti e la persona muore e allora se ci sono formazioni di trombi dobbiamo stare solo a guardare ci sono i farmaci che sciolgono diciamo così i trombi e come no c'è una sostanza che si chiama iparina costa 3-4 euro la scatola usiamo quello è normale eppure tutto questo non è stato favorito e incoraggato anzi ci è cercato in tutti i bodi di ostacolare queste terapie l'unico luogo dove si poteva curare era l'ospedale che però gli ospedali si trovavano ad essere intasati letteralmente e quindi allora una volta intasati dice non c'è spazio per tutti faccio quelle selezioni eutanasiche eugenetiche di cui c'erano prima e intanto i medici di base erano a casa a fare niente cioè bloccati non puoi andare a visitare non devi andare a nessuna parte eccetera eccetera che è una cosa assurda è come tenere i soldati chiusi in caserma non muoiono certo però non combattono non mi piace usare le metafore belliche perché tra l'altro il regime ha usato abbondantemente questo tipo di metafore bellicistiche che a me non sono mai piaciuta perché mi diceva ma tu sei quindi un medico in prima linea no io sono un medico che cura non faccio guerre non sparo nessuno io curo e anzi tutta questa retorica gli ospedali come trincea no no l'ospedale deve essere luogo della cura non della trincea eccetera quindi io da quel momento cominciai a curare e sono andato avanti appunto l'atrice mi stava ricordando una cosa importante io qualche mese fa ho ricordato questo episodio di questa signora che si chiama Giussi che ha un nome e cognome pensate che un sito di debacking cioè di smantellamento delle presunte fakes parlò di questo episodio perché qualche giornale ne aveva parlato anzi qualche giornale ne aveva parlato anche il Corriere della Sera ma loro dissero che questa cosa me l'ho inventata io perché io sono uno scrittore di fantasy e che quindi mi ero fatto una bella narrazione così era un racconto la figlia della signora Giussi scrisse dicendo guardate che questo non è un sito che mia madre esiste veramente ha questo nome e cognome dottore la curata così così pensate a che cosa arrivano oppure ti censurano appunto qualche mese fa raccontai in una manifestazione in piazza a Varese a Bombardia quello che era successo e poi a sorpresa io non lo sapevo neanche la signora Giussi era lì era lì presente era nella piazza e a un certo punto si è fatta avanti la figlia era portata lì io avevo finito di raccontare quanto erano avuto voi e venne sul palco a testimoniare con la sua presenza che era successo così che lei c'era che l'era stata curata che l'era guarita sapete che questa cosa è stata filmata e messa su Youtube dopo dieci minuti di essere su Youtube è stata rimossa censurata pensate tutta l'immondizia che c'è sui social Youtube io non avevo detto dietro non avevo offeso nessuno avevo solo parlato di questa persona avevo parlato di una guarigione perché rimuoverla? non ce l'avevo con nessuno però appunto non andava detto non andava mostrata quella signora che era la prova vivente che curare si può allora io da quel momento ho cominciato a curare ed è stata proprio un'esperienza per me straordinaria curando mi verrebbe da dire non solo il corpo ma anche lo spirito io tra l'altro appunto non mi sono ammalato mai pur andando a domicilio e non ci andavo con la tuta spaziale perché quella faceva anche come dire deprimeva le persone spaventava poi molte volte che andavo ero un anziano io andavo con la mia vecchia borsa di cuoio da medico quella che ha soffietto la mascherina i guanti e basta andavo lì mettevo il fone endoscopio sulle spalle sul sentire i polmoni eccetera eccetera facevo una riparazione come se fosse una cosa normale e questo portava anche tranquillità a persone appunto veramente terrorizzate convinte fin dall'inizio fin dalla diagnosi quando arrivava la positività di essere destinate a morire eppure con un minimo di precauzione non mi sono mai ammalato e ho continuato quindi a lavorare così e a curare le persone ma andiamo al di là della mia esperienza personale che cosa che cosa ci mostra tutto questo che cosa ci dice questo non è una mia opinione personale è la realtà dei fatti di fatti che indicano che nell'ambito di quel grande reset di cui abbiamo parlato di cui stanno parlando c'è anche uno spaventoso reset della medicina ci si avvia ad una medicina che non è più la medicina della cura è magari la medicina della prevenzione tant'è che fin dall'inizio cosa ci dicevano che erano allora che questa malattia era incurabile che non si poteva affrontarlo che non c'erano cure ma sapeste quante volte l'ho seguito anche da medici da colleghi non c'è cura ma non è vero io curo ma no una volta uno mi ha detto sarebbero guariti lo stesso non lo so devi vedere prova tu con la tachipirina a curare perché io non so sapete quando tu magari sei critico dico sei un negazionista no no io non ne io il virus l'ho visto la bestia l'ho affrontata ho dovuto lottare a volte con le situazioni drammatiche con persone che avevano ma perché magari era una settimana che erano a casa con la sua tachipirina e con il virus dentro che appunto come vi dicevo è un virus infiammatorio e quindi gli stava friggendo gli oli e ho dovuto veramente tirare fuori persone che avevano magari so che c'è anche qualche collega presente non ci crederete ma sono dovuto tirare fuori persone che avevano 70 di saturazione con magari con antibiotici con ossigeno ovviamente ma si sono salvati nonostante tutto perché poi dicevano no l'ospedale no perché se arrivi in ospedale è così e ce l'abbiamo fatta e allora dicevo che queste cure sono possibili che non è vero che non c'è cura ma sono state in tutti i modi impedite non solo queste cure con questi farmaci che sono io tra l'altro non uso farmaci strani sono di colleghi ci sono associazioni conosco molti medici naturopati che insistono molto magari anche su terapie naturali io sono molto convenzionale io uso antibiotici antiinfiammatori tutti i farmaci come dire chiamiamoli convenzionali quindi niente di niente di strano ma è tutto come dire normale quando una volta anche qua ho aiutato a guarire una persona che era stata addirittura mandata a casa a morire c'è tanto c'è da fare mi chiamo a mio amico diceva che c'è una Michela che sta malissimo l'ha mandata a casa dell'ospedale che c'è tanto ormai che adesso sono riuscito a salvarlo ma anche lì quando poi ne è uscita e guarita con grande fatica eccetera vado a casa e guardo una sua cartella aveva già dei problemi aveva storie di problemi polmonari due anni prima era stata ricoverata con una polmonite curata con che cosa? con il cortisone e con la zittromicina che era un antibiotico che anche io ho utilizzato nei suoi confronti quindi non è che c'è da io non ho inventato niente però c'erano anche colleghi che avevano pure anche più innovative pensate proprio al povero ma innovative ma anche qua in una continuità utilizzando conoscenze immunologiche normalissime il povero professor De Donno che aveva fatto come dire due più due cioè io curo col plasma immune il plasma di quelli che sono guariti addentro quegli anticorpi che possono contrastare il virus una cosa assolutamente logica una cosa un meccanismo terapeutico notissimo da sempre impedito eccetera eccetera e poi sappiamo in che modo è stato suicidato ma appunto terapie no ma fin dall'inizio la narrazione ufficiale diceva dobbiamo accorderci in casa non ci sono cure dobbiamo aspettare la salvezza che verrà dal vaccino e qui appunto io sono anche un medico vaccinologo io per tanti anni ho fatto vaccini vaccini pediatrici vaccini negli adulti e così via ma proprio perché sono un vaccinologo cioè conoscito i vaccini so che per fare mediamente per fare un vaccino ci vogliono almeno 4-5 anni quindi quando io senti lessi annunciato l'unica salvezza è il vaccino ero perpresso e gli dice ma allora innanzitutto non è così scontato riuscire a fare un vaccino perché per fare un vaccino ci vuole un sacco di tempo perché devi fare tutta una serie di passaggi devi fare una serie di step devi fare prove test di efficacia e sicurezza questi sono i due criteri base che sia efficace cioè che funzioni almeno più del 50% e sicurezza non mi dia effetti colaterali e non è sempre possibile fare un vaccino tant'è che in fondo non sono molte le malattie per cui ci sono i vaccini ci sono anche malattie gravi vi dicevo prima che la più importante malattia infettiva quella che fa più morte è l'epatite C e l'epatite C non è un vaccino c'è il vaccino dell'epatite A c'è il vaccino dell'epatite B ma non c'è il vaccino dell'epatite C non so la conosciamo da tanti anni da 40 anni ma non c'è il vaccino non sono mai riusciti a farlo non è che data una certa malattia opp ecco fatto il vaccino non c'è mai stato un vaccino per mai di essere una malattia che è interverso da 40 anni ha fatto milioni di morte la tubercolosi c'era una volta un vaccino ma non funzionava aveva tocca effetti colaterali eppure la tubercolosi per esempio nei paesi africani eccetera crea anche qua decine centinaia di milioni di morte perché non hanno mai fatto un vaccino antitubbercoloso perché non sempre si può fare il vaccino non è così scontato poi la mia perplessità era dovuta al fatto anche che non sono mai stati fatti i vaccini per i coronavirus riconosciano da 60 anni non è mai stato fatto nemmeno nel 2002-2003 la famosa SARS in quel caso come dire i sistemi sanitari lo affrontarono nel migliore dei modi per prima cosa mi occupo della cura la cura è prioritaria quindi curarono con i farmaci come l'idolossidolovacine eccetera poi una volta finita perché è così che si procede prima curo e poi prevengo perché il vaccino è una prevenzione adesso vediamo abbiamo visto di cosa si tratta vediamo se riusciamo a fare un vaccino arrivarono per quattro volte arrivarono sviluppati quattro tipi di vaccino arrivati tutti e quattro alla terza fase di sperimentazione dove furono bloccati perché nelle cavie nei topini determinavano come dire degli effetti colaterali tra l'altro erano di tipo mascolare trombosi eccetera non possiamo non possiamo metterlo in commercio facendo così si agì correttamente adesso i topini siamo noi siamo noi in terza fase e quindi si sta facendo una sperimentazione che anche qua io non sono un antivaccinista appunto li ho fatti per tanti anni io mi definisco un free vax cioè sono per libertà vaccinale vuoi fare il vaccino hai paura vuoi ritieni che il vaccino ti possa fallo non c'è problema naturalmente cerca di essere anche consapevole di quelli che sono di vantaggi di svantaggi e fallo se lo vuoi fare fallo ma non imporlo a me non imporlo a nessuno se uno vuole partecipare a una sperimentazione medica lo faccia ma su base volontaria per l'amor di Dio sarà anche magari un bene merito alla medicina ci sono già normalmente quelli farmaci che vengono sapete che ogni farmaco che c'è anche le fasi di sperimentazione e ci sono anche non c'è da scandalizzarsi sperimentazioni anche su esseri umani che però sono volontari che magari prendono anche degli esercimenti per il loro ma deve essere su base volontaria lo vuoi fare farlo chi non lo vuole fare lascialo stare rispettalo rispettano la libertà di una persona di decidere se vaccinarsi cioè quindi di prevenire o di curarsi ecco questa è la cosa importante ma ripeto siamo di fronte non soltanto adesso sono arrivato a questa come dire a questo giudizio che non siamo di fronte semplicemente ad una serie di errori di sviste di non facciamo autopsie non diamo le cure diamo la tachepirina davanti a una polmonite eccetera eccetera beh tutto questo non può essere una serie di errori proprio è impossibile vuol dire che siamo di fronte invece a una strategia ben precisa che è quella della rinuncia terapeutica la medicina del futuro però non di un futuro lontano la medicina da qua a polo sarà una medicina che non si prende pure non è più la medicina ipocratica la medicina del prendersi cura del malato sarà una medicina che magari punta punta anche ad una trasformazione della persona e anche qua non sono io che sto inventando in queste definizioni esiste esiste da tanto tempo una una ideologia che si chiama transumanesimo sono esponenti del transumanesimo filosofi ma anche scienziati ed è una ed è un'ideologia terrificante è la peggiore che abbiamo mai incontrato perché cosa dice? dice che l'uomo è imperfetto è anche un'ideologia non solo anti-umana è anche un'ideologia profondamente anti-religiosa nel senso che è come se lanciasse delle accuse a Dio e dice tu Dio hai fatto le cose male non è vero come dicono i cristiani che Dio ha fatto il mondo è uno spettacolo il creato è una cosa meravigliosa l'uomo è una cosa meravigliosa con tutte le nostre limitazioni le nostre debolezze le nostre fragilità però comunque l'uomo è fatto a immagini e somiglianze di Dio ma loro dicono Dio ci ha fatti male perché ci ammaliamo perché moriamo e quindi il loro sogno è una trasformazione radicale dell'essere umano che deve diventare quasi immortale non si deve ammalare non si deve per cui il curare fa parte ancora di una concezione antica una visione antica loro dicono noi dobbiamo cambiare l'uomo dall'origine intervenendo con biotecnologie per trasformarlo in un organismo geneticamente modificato che non si ammala quindi non ci dobbiamo preoccupare di curare il diabete dobbiamo fare sì che fin da bambino magari appunto a questo serviranno le vaccinazioni del futuro faranno in modo che l'uomo non si ammala è un sogno sembrerebbe quasi essere una cosa bellissima ma è rischiosa perché vuol dire andare oltre l'uomo trasformandolo in una cosa nuova appunto in un organismo geneticamente modificato e non è un caso appunto che stiamo di fronte a queste tecnologie di trasformazione che sono i cosiddetti vaccini mRNA perché appunto le mie perplessità dallo scorso da medico che conosce i vaccini che utilizza vaccini tradizionali cioè fatti con virus uccisi virus tendomati eccetera eccetera la mia obiezione dice non si può fare un vaccino ed è vero tanto è che non hanno fatto nessun tipo di vaccino tradizionale hanno fatto dei vaccini molto particolari e poi soprattutto adesso in questo momento sta vincendo anche in una guerra commerciale senza esclusione di colpi cioè i vaccini a mRNA Pfizer soprattutto che è il monopolista Moderna è la stessa cosa ma è il cugino povero hanno avuto nettamente la meglio sui vaccini quelli a vettore virale cioè AstraZeneca Johnson & Johnson che ormai non vengono più fatti verranno spazzati via a breve vincono stanno vincendo i vaccini mRNA che sono una cosa assolutamente nuova mai erano stati fatti dei vaccini con l'mrna cioè con l'mrna messaggero che è appunto qualcosa che manda un codice genetico alle nostre cellule e fa fare alle nostre cellule ad esempio il virus il vaccino mRNA funziona così è un codice genetico viene mandato il codice genetico del virus del covid in particolare della proteina spike le nostre cellule fabbricano la proteina spike e dopo di che si formano gli antiporti capite che però vuol dire modificare quello che è la normale attività della nostra cellule è avviato questo processo lo si può contenere lo si può controllare non sappiamo nemmeno la stessa Pfizer che nella scheda tecnica uscita a fine dicembre diceva non sappiamo dire di eventuali effetti collaterali a medio lungo termine nella nostra sperimentazione sovrimersi alcuni effetti collaterali però sul lungo termine non sappiamo poi addirittura Pfizer con tutta onestà diceva anche delle cose che poi sono state superate dai protocolli perché Pfizer diceva il nostro vaccino non si può fare in gravidanza e neanche in allattamento mentre adesso le decisioni politiche hanno portato a farlo lo fanno anche le gravide quindi ha superato anche quella che era la stessa come dire la stessa indicazione della ditta produttrice quindi quello che è in corso è anche un esperimento per vedere cosa succede con queste tecnologie a RNA messaggero e queste tecnologie a RNA messaggero potranno essere usate anche in futuro per altri tipi di vaccini e di farmaci che saranno appunto prodotti che portano a una modificazione genica quindi io ho molta preoccupazione rispetto a questo tipo di azioni terapeutiche che appunto non sono terapie non curano il malato modificano l'organismo in modo appunto che non possa magari venire una determinata malattia eccetera ma sono molto preoccupato proprio anche per la visione che ci sta dietro e la visione allora diventa tutto chiaro l'abbandono terapeutico non ti preoccupare più di curare cioè si fa anche una vera e propria selezione darwiniana soccombano i deboli sopravvivono i più forti e poi dopo appunto sui sopravvissuti e su anche magari le nuove generazioni vediamo di operare modificandole e questo spiega anche il perché vogliono a tutti i costi arrivare alla vaccinazione dei bambini che di per sé non ha senso non ha valore perché prima vi dicevo all'inizio che il tasso di letalità è del 3% in generale guardando dentro proprio questo 3% si vede che il 99% di questo 3% è persone di morti superiore a 50 anni qual è il tasso di letalità delle persone sotto i 20 anni è dello 0,00302 quindi ci dobbiamo così tanto preoccupare della vaccinazione dei bambini o anche dei giorni che cifra sotto i 20 anni no e allora perché questa ossessione questa volontà assoluta di arrivare anche alla vaccinazione dei bambini perché ecco questa è anche un'altra domanda che dovremmo farci perlomeno farcelo poi le risposte tre anche ipotizzate magari mi darebbero del complottista però voglio fermare qua ecco quindi io adesso lascio spazio evidentemente a domande che immagino ci saranno anche su altre cure sulla prevenzione è possibile prevenire il covid la vaccinazione è l'unica prevenzione no ce ne sono anche altre di prevenzione perché appunto non neghiamo affatto il problema c'è c'è è un virus che aggira che fa danni eccetera eccetera ma lo possiamo affrontare lo possiamo curare sì lo possiamo in qualche modo prevenire sì l'unica cosa che dobbiamo fare però in questo momento è veramente tenere gli occhi aperti perché io vedo sempre più una società anestetizzata quasi lobotomizzata che assume assolutamente in maniera assolutamente accritica tutto quello che viene detto dal mainstream che non si pone domande anche appunto quasi di tipo logico io mi è capitato a volte davanti a genitori che venivano magari a vaccinarsi a vaccinare i bambini per altri motivi che sono antititani eccetera quando posso fare il bambino a 12 anni quando posso fare il vaccino anti-covid ma anche mai l'ho detto non è necessario non si ammala il bambino e se si ammala cioè si può ammadare certo ma la fa in una forma leggera non è necessario perché non sente parlare di effetti collaterali vedo gente che viene giù dalle nuvole e pensa appunto che il vaccino debba essere fatto poi prima la prima fase erano questi tipi di persone quelli che lo volevano proprio per convinzione il vaccino è l'ultimo protegge ma protegge da che non si ammala non muore non succede niente adesso invece c'è un altro ci sono altre giustificazioni io sono sentito genitori dire eh mia figlia ha 13 anni la vaccino perché deve giocare a pallavolo ho capito ma e se poi è più importante la pallavolo qui e ora o magari qualche cosa in futuro danni magari anche all'apparato del produttore io sto ricevendo segnalazioni da colleghi che vedono veramente che mi segnalano tantissimi casi disturbi del ciclo di donne vaccinate oppure un amico in cui ho una fiducia totale una persona di grandissima rettitudine in ogni estate che lavora in una casa di posi ma ha detto Paolo ho visto una signora di 78 anni vaccinata a cui è tornato il ciclo è tornato il ciclo cioè che cosa c'è dentro capito un'altra peggio ancora dice un'altra signora di 82 anni che infatti dice è stata ha avuto uno shock ha dovuto essere curata per lo shock perché la mattina si è svegliata col sedo gonfio e veniva fuori il latte cioè quindi qualche cosa io ripeto vi cito un medico di grandissima come dire rettitudine di cui mi fido se mi dice che ha assistito a questi episodi per cui c'è un antico principio della medicina che dice primum non no se non sono sicuro aspetto a farlo aspetto a per cui chiudo dicendo solo questo non sono un negazionista non sono un internaviattista ma sono semplicemente un medico che ha toccato con mano tutte queste realtà di questa epidemia compresi altri episodi un po' discutibili un po' strani i camion di Bergamo io ho amici ho un amico che lavora in un'impresa di pompe funibre una delle più grosse della nostra zona del nord Lombardia che dice ma noi eravamo pronti a portare via con le pompe semplicemente con i carri funibri normali ci avevano detto no 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 ci pensa l'esercito per cui quelle scene che davvero da guerra psicologica la propaganda camion che attraversavano il centro di una città a 30 all'ora l'ordine era di andare lenti e di farsi vedere attraversando il centro della città quando l'ospedale di Bergamo è alla periferia è fuori è vicino una sorta di tangenziale e da lì potevano anche andare appunto ai cimiteri anzi ai forni crematori perché attraversare la città rombando eccetera eccetera per farsi vedere per terrorizzare quindi io voglio terminare questo mio discorso anche se mi rendo conto che lo scenario tracciato è veramente inquietante con un appello alla speranza ad avere lo stesso lo so è difficile perché vediamo tutto veramente andare male ma non dobbiamo vivere allora in questo momento noi siamo oggettivamente oppressi oggettivamente ma c'è un grande scrittore inglese che io amo molto che si chiamava Chesterton che diceva è terribile essere oppressi ma è ancora più terribile essere depressi quindi non dobbiamo cedere alla depressione non dobbiamo cedere alla rassegnazione dire stanno andando così le cose cioè lo so che è così ma è bene conoscere i fatti è bene conoscere l'antagonista e abbiamo di fronte un potere terribile un potere che appunto potrebbe anche avere dei progetti a lungo termine non solo dice Big Pharma si arricchisce e no ma c'è dietro qualcosa di molto più terribile se è vero che questi prodotti genici possono interferire con la fertilità che rendete conto che tra 20-30 anni potremmo essere di fronte anche ad un collasso demografico dell'umanità ma è quello che vogliono qualcuno l'ha detto esplicitamente il signor Bill Gates e altri la terra perché poi tutto questo si collega anche al discorso dell'emergenza ambientale che in questi giorni sempre tra c'è l'emergenza ambientale per cui ecco siamo in troppi inquiniamo produciamo CO2 eccetera eccetera quindi se c'è uno sfoltimento c'è tutto da guadagnare ecco quindi questi potrebbero essere i disegni ancora più inquietanti però nonostante tutto per cui è bene conoscere il male il vero medico quello che fa di Agnose che non mi dice facciamo finta che va tutto bene no no andiamo a vedere qual è il problema andiamo a trovare a scovare il male e curiamolo quindi cerchiamo soprattutto di vivere con fiducia senza arrenderci senza accedere alla depressione tra l'altro la depressione incide fortemente sul sistema immunitario quindi ci abbassa le difese e invece in questo momento dobbiamo essere preparati pronti il Vangelo dice e tra l'altro ormai il Vangelo ne hanno fatto strame anche del Vangelo perché adesso il vero Dio è il vaccino e qua purtroppo davvero lo dico da credente io sono un cattolico credente ma anche qua sto assistendo con dolore al venir meno del ruolo della Chiesa che quello appunto dovrebbe essere quella di incoraggiare io vengo da da un'amica a partito a partito all'arcidiocese di Milano dove nel nostro quasi nel nostro DNA c'è davvero ancora oggi a distanza di secoli San Carlo Borromeo cioè Sant'Ambrogio ovvio grande fondatore ma tutti cioè la fede la fede lombarda e la fede borromeca viene proprio detto San Carlo Borromeo che durante la peste andava in giro visitava si chinava sui malati portava i sacramenti non aveva paura di niente poi è morto ma fa niente perché appunto non c'è amore più grande dice il Vangelo di chi dà la vita per i propri amici e invece appunto abbiamo assistito al collasso della Chiesa e qua mi spiace dirlo ma è così con un Papa che si è adeguato pienamente alla narrazione voi lo sapete l'anno scorso la campagna vaccinale europea è partita in una data ben precisa il 27 dicembre in tutta Europa questo fu il vaccination day era la domenica iniziò quel giorno lì la vaccinazione è contarmata di paese Europa in realtà c'è un problema proprio tecnico che impedì di iniziare invece nel giorno che i burocrati gli eurocrati volevano iniziare la campagna vaccinale il 25 dicembre era proprio anche come dire simbolico sostituire al Dio cristiano il Dio vaccino però appunto anche se ci fu questo slittamento appunto purtroppo per voglio nell'omeria di Natale arrivò a dire sta arrivando dopo domani iniziare la campagna e poi dici è l'omeria di Natale parla del Natale e invece disse tra due giorni iniziare la campagna vaccinale arriva il vaccino luce e speranza così lo definì c'è una cosa terrificante cioè due argentini che sono di nostro che possono riferirsi solo al nostro Signore non ad un prodotto farmaceutico quindi purtroppo è in corso anche questo anche questa implosione della Chiesa e allora io dico e lo stanno già facendo gli amici come Beatrice come Marco ricostruiamo comunità ricostruiamo comunità dal basso infatti stanno nascendo realtà economiche scuole parentali io dico dovrà anche nascere una sanità parentale una Chiesa parentale dal basso proprio visto che c'è questo collasso invece istituzionale con la Chiesa piattita completamente sulle direttive dei poteri forti e allora amici partiamo davvero ripartiamo dal corale non la ripartenza di cui parla ma la ripartenza umana una ripartenza spirituale una ripartenza appunto delle nostre comunità salviamo l'umano che c'è in noi appunto le minacce del transumanesimo di diventare organicamente modificati una religione che non crede più in Dio che lo sostituisce con un farnico eccetera respingiamo tutto questo e restiamo umani grazie 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 a Dottor Paolo Guzzano per queste parole di luce speranza di rinascita luce speranza come speranza è stato un termine di passo ma ci sono alcune domande inizio io poi intanto le persone più presenti che volessero farle si possono avvicinare così diamo il microfono in modo che ascoltano sentano tutti allora parto subito con le domande quelle un po' più difficili Paolo la vaccinazione purtroppo anche qui in questa sala io lo so perché noi abbiamo raccolto anche le problematiche di tanti e anche i momenti di sconforto qualcuno ha dovuto cedere alla vaccinazione per motivi di lavoro per motivi più vari la domanda che più frequentemente ci viene rivolta cosa possiamo fare per depurarci per avere meno conseguenze possibili da questa vaccinazione anomala diciamo rispondo subito molto volentieri perché appunto io sto affiancando la cura dei malati covid la cura di chi appunto sta avendo delle reazioni post-vaccinari e li curo volentieri perché io non ho nessuna intenzione di fare come i miei colleghi di regime che dicono ah io i novax non li curo che è una cosa pazzesca è una cosa disumana perché appunto noi medici pronunciamo il giuramento di ippocrate in base al quale ci impegniamo a curare tutti indifferentemente quindi differentemente da cosa pensi io quando dicevo delle telefonate non so chi c'era l'altra parte non so come la pensa però lo curo ho curato ho curato appunto anche è una cosa che mi ha commosso tanto ho curato una famiglia musulmana prima di Natale tra un altro erano stanti cioè nessuno andava ovviamente il medico di base non andava eccetera eccetera io li ho curati e poi alla fine proprio alla vigilia di Natale ormai stavano bene mi hanno portato una rosa di Natale con un biglietto scritto Buon Natale cioè un buon Natale ricevuto da musulmani è stata una cosa ripeto il più bello augurio che abbia mai ricevuto anche perché io avevo detto a loro in un momento in cui sembravano andare male le cose io però li sostenevo e dicevo no dovete resistere dovete resistere stavo mettendo in campo tutti i tipi di farmaci poi ad un punto gli ho detto al figlio quello che stava meglio ma voi siete credenti e gli ho detto sì faccio allora pregate gli ho detto anch'io pregarò per voi e magari questa alleanza Gesù Allah porta a dei buoni esultati e infatti si sono salvati quindi bisogna curare tutti quindi io non pongo nessuna pregiudizia anche verso i vaccinati a volte qualcuno dice beh io però mi sono vaccinato va bene ho capito e interveniamo allora cosa si può fare in realtà le cose non sono così chiare come per la cura del covid ormai abbiamo capito come agisce il covid quindi affermare l'infiammazione eccetera eccetera il vaccino agisce in modi più subtoli certamente crea dei problemi di tipo vascolare sulla coagulazione per cui io suggerisco sempre anche in forma post vaccino o anche in forma preventiva se qualcuno di voi dovesse farlo per forza perché con la pistola puntata per salvare magari la propria famiglia perché lo stipendio è uno e deve mantenere le figlie eccetera se dovete farlo fate una profilassi preventiva prendendo cardioaspirina proprio per la cardioaspirina è un'aspirina leggera ha un dosaggio basso e impedisce la formazione di trovi quindi tre giorni prima del vaccino e poi per venti giorni dopo prendere cardioaspirina poi c'è un prodotto che ho già usato ampiamente che è proprio un disintossicante rispetto a quello che c'è ai danni della proteina della proteina spike fatta dal vaccino è un prodotto che si chiama esperivit fatto con esperivina coercetina e vitamina C questo è un prodotto naturale quindi tra l'altro lo potete prendere in farmacia senza ricetta esperivit e prenderne tre al giorno tre giorni prima della vaccinazione e venti giorni dopo la vaccinazione tra l'altro questo lo potete prendere anche come prevenzione cioè in questo tipo di situazione col vaccino fatto ti attenua i danni e funziona così ma non si può prendere anche se uno non deve fare il vaccino come prevenzione adesso andiamo incontro anche a freddi eccetera quindi una come pura prevenzione una pastiglia al giorno un esperivit al giorno toglie il covid di giorno quindi poi prendete per prevenire anche vitamine queste fanno bene la vitamina C la vitamina D e poi anche questo tipo di prodotto c'è anche un altro come dire prodotto preventivo che potrei consigliarvi appunto non ci guadagno niente ma anche qua è una storia che conosco perché è la storia di uno scienziato che tra l'altro era stato allievo di Rita nel limontalcini quindi non proprio l'ultima dei moicani che dirige un istituto di ricerca a Bolzano a un certo punto mi chiama già a maggio del 2020 c'è una sostanza una molecola naturale c'è una classe di molecole che si chiamano ciclodestrine che dice che interferiscono nel meccanismo di ingresso del virus nella cellula impediscono l'endocitosi che è il meccanismo per cui il virus entra nella cellula questo scienziato che tra l'altro è un uomo buono un uomo pulito anche qua dedito al lavoro non ha neanche famiglia vive ancora con i genitori si dedica tutti i giorni era felice e qualche giornale aveva cominciato a parlarne anche al difusore dell'Italia perché essendo di Bolzano i suoi lavori erano arrivati anche in Austria eccetera eccetera sono premiato a Praga per questo prodotto lui mi ha detto che ha ricevuto delle pressioni fortissime delle minacce per non mettere in giro di non produrre di non diffondere questo prodotto alla fine l'AIFA non gliel'ha nemmeno approvato come farmaco ma gliel'ha approvato come integratura alimentare anche se in realtà è uno spray perché lui è riuscito a sintetizzare queste molecole in una forma spray che fa arrivare quindi il prodotto direttamente nelle vie respiratorie quindi quale integratore alimentare è spray non ha senso però si chiama endovir stop lo saccate spray nasale o spray orale come volete e quindi due spray o tre al mattino e per tutta la giornata si può andare in giro eccetera impedisce l'ingresso quindi questa è un'altra forma di prevenzione comunque io mi ricordo quando era così felice di averlo scoperto la soddisfazione non per una non per soldi infatti diceva è una molecola che ha bassissimo costo lo diffonderemo a bassissimo costo e quindi era la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro per il prossimo anche quest'uomo è un uomo di grande fede poi il terrore davanti alle minacce ricevute cioè tutto quello che è in cura come appunto il plasma immune di De Dono però per fortuna c'è ripeto nelle farmacie magari bisogna farlo arrivare lo tengono nascosto non è però chiedetelo endovir stop e anche questo funziona di funzionazione io ci ho fatto tutto da quando è reperibile da quando è commerciato eccetera io vado avanti così non sempre magari appunto adesso lo riprenderò con i freddi eccetera senza ricetta senza ricetta per fortuna anche per i bambini lo consigliate sì sì questo spero evite anche dopo un qualche mese perché ha fatto la vaccinazione sì perché comunque esiste così come esiste il long covid cioè il covid gli strascichi del covid così possono esistere come gli strascichi del vaccino quindi fatto anche se vaccinata sei mesi fa fa niente lo prendo lo stesso sì dunque a livello sempre di prevenzione Paolo a parte insomma queste indicazioni che ho già cercato quali sono le buone pratiche in termini per esempio di stile di vita ciclo di orniveglia alimentazione sport e se ci sono delle categorie più avvisse sappiamo che ci sono delle indicazioni particolari ecco questa è una bellissima domanda perché appunto il potere ha indotto una paura indiscriminata tutti cioè tutti possiamo prenderlo ma morire no? e invece non è così anche qua ci vengono incontro i dati i meri dati epidemiologici statistici innanzitutto il 67% dei morti sono maschi cioè un rapporto 2-1 il doppio quindi poi ci sono dei fattori di rischio proprio acclarati uno dei quali per esempio è il sovrappeso e l'obesità però perché non lo dicono perché non come dire non danno delle indicazioni guardate che c'è qualcuno cioè tutti tutti devono sentirsi sotto minaccia per cui vabbè tra l'altro piccola parentesi poi vabbè l'età se il 99% 10,1% dei morti è sopra i 50 anni anche questa è un'indicazione come dire mettiamo in sicurezza le persone più anziane però appunto il terrore è indiscriminato invece io che ho 62 anni sono evidentemente l'avete visto cicciottello maschio evidentemente dovrei vivere nel terrore ma grazie a Dio non vivo affatto nel terrore perché appunto si può prevenire anche chi magari ha qualche fattore di rischio in più non deve necessariamente vivere nel nel terrore deve semplicemente proteggersi per cui magari allora la prevenzione con questi farmaci che dicevamo prima magari cercare anche questo lo dico a me stesso in primo luogo cercare di perdere peso di rimanere un po' di magari se qualcuno ha anche un'altra abitudine che chiaramente ha rischio è il fumo ma anche qua avete mai sentito ho visto in atto una campagna non me ne vogliano i fumatori però insomma oggettivamente dite che c'è in giro un virus che prova una polmonite beh smetti di fumare almeno temporaneamente finito il virus magari riprendi mai anzi i tabaccai erano delle pochissime cose sempre aperte e non me ne vogliono i tabaccai eventuali per esempio ma oggettivamente chiudi tutto e però invece il tabaccaio si puoi fumare perché non cogli l'occasione di una cosa del genere per dare delle indicazioni appunto di buone pratiche sanitarie quindi fondamentalmente ecco questo tipo magari anche appunto migliorare la dieta lasciare perdere i cibi spazzatura mangiare più sano fare anche come dire movimento ma appunto sappiamo bene che durante i lockdown era proibito anche fare passeggiate uscite quindi c'erano tutti degli stili di vita coatti che tutti tendevano come dire in realtà a peggiorare gli stili di vita ecco quindi queste sono le forme di prevenzione anche naturale anche appunto fattibili tenendo conto appunto di rischi non vivendo così nell'illusorietà di non ammalarsi ma facendo di tutto per non ammalarsi ancora sulla prevenzione alcune indicazioni allora noi l'oggetto informandoci sappiamo di alcuni consigli che sono stati dati da alcuni tuoi colleghi circa l'assunzione della latoferrina del crutachione della quercitina menzionato anche prima e anche dell'isozina sì anche questo aggiungiamo aggiungiamo tutto questo aggiungiamo appunto le le vitamine tutto questo ha che cosa ci protegge dal virus no io forse prima mi sono più soffermato su proprio quello che protegge proprio dal virus magari prendendo in considerazione un'infezione avvenuta per cui le speri ci protegge oppure nell'imminenza di una eventuale infezione quindi l'endolio stop ma anche il rinforzare le difese immunitarie per questo tutte queste queste sostanze che Gian Piatrice ha elencato funzionano tra l'altro l'isozima è quell'enzima che è presente nella saliva che è quello che già impedisce di ammalarsi di ogni per ogni batterio per ogni virus che che incontriamo quindi sono terapie naturali basate appunto sulla implementazione sul rafforzamento del sistema immunitario quindi possiamo intervenire con le cure una volta ammalati ma possiamo anche fare in modo di fermare prima il virus rendendoci più forti quindi hai già detto tutto tu anche per essere più sintetico non ho da aggiungere altro non è che anche questo però dici qual è il migliore di questo perché spesso me lo sento chiedere questa è un'altra domanda dipende anche un po' dall'individuo da individuo a individuo devi cercare di capire anche a seconda dei fattori di rischio io chiedo sempre la medicina è anche questo non è che c'è appunto prima dicevo la medicina dei protocolli guarda l'uomo come se fosse semplicemente un numero devi fare questo devi fare quest'altro la medicina vera è quella che tiene in considerazione tanti fattori sei diabetico sei cardiopatico io quando parto anche con le cure non è che c'è uno schema spesso mi chiedono qual è il suo protocollo di cura non ne ho non voglio protocolli ogni persona è una persona secondo la persona da un antibiotico piuttosto che a seconda anche delle gravità delle condizioni un antibiotico piuttosto che l'altro piuttosto che uno più forte e così via se sei diabetico devo stare attento col cortisone e ci sono tutta una serie di fattori quindi dobbiamo ripartire anche qua da una medicina personalizzata non la medicina del protocollo come se fossimo tutti uguali non siamo tutti uguali e quindi vanno tenuti in considerazione anche questo quindi anche magari nelle indicazioni dietetiche piuttosto di quale tipo per te può andare meglio la lattoferrina o qualcun altro invece magari un altro tipo di integratore che possa rinforzare il sistema sanitario anche qua però appunto sapere che esistono e poi però cercare lo so che non è facile cercare un medico che ti possa fare da riferimento per sapere che cosa prendere anche qua l'abbiamo sempre detto l'autoterapia non va bene lo so che oggi il problema è trovare davvero uno straccio di medico che ti dica che cosa prendere magari che ti prescrive anche perché non tutti i farmaci sono prescrivibili e addirittura ci sono anche dei farmacisti che fanno resistenza su farmaci perfino da banco questo è un episodio che vi devo dire che mi è capitato di recente non vi dico di quando appunto mi è capitato di prescrivere l'idrossiclorochina con farmacisti in specie di qualche regione e facciamo il dove va le miglia romagna dove non lo davano i plagiari non lo volevano dare perché quando capiscono che tu stai curando un paziente colpo bam si ferma ma questo ve lo devo dire perché è una cosa cresciosa è capitato un paio di settimane fa un signore di Milano mi chiama mi dice guarda mio figlio purtroppo ha fatto il vaccino io non volevo glielo ho sconsigliato faccio vabbè ormai l'ha fatto procediamo facciamogli prendere appunto la la cardiospirina eccetera ragazzo vai a farmacia e chiede al farmacista cardiospirina l'aspirina è un prodotto da banco la dai normalmente ma qui il farmacista che evidentemente come tanti medici una se non un professionista dalla salute ma una sentinella del regime ha chiesto al ragazzo un ragazzo di vent'anni gli dice perché prendi la cardiospirina e il ragazzo in buona fede gli ha detto perché ho fatto il vaccino e un medico mi ha consigliato ah no 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 l'aspirina ti può far venire delle moragie diceva allora non la vendiamo neanche cioè allora pensate che la cardiospirina è 100 mg di acido acitilisarticolo l'aspirina normale che prendete per l'alfabeto è 400 mg quindi che problema fa dovremmo tutti quelli che prendono l'aspirina controllarsi immediatamente dice ti possono venire delle dice ma perché ti sei fatto mi è venuto da dire è una rabbia perché ho detto ma fai quello che devi fare dai ti ha chiesto non è che ti ha chiesto la cocaina ti ha chiesto la cardiospirita dagliela punto e basta pigliati i soldi e taciti invece no perché è andato a scavare perché è andato a cercare di impedire un'azione di profilassi non è che sta votandogli la clorochina gli stavano cercando di aiutarlo a non avere dei trombi quindi questa è stata un'azione veramente di interferenza criminale cioè finalizzata a impedire ad impedire una profilassi normale dica signora il cardireme è uguale? sì mia di massimo sì si si ha delle allergie si chiaro che non tutti la spirina oggettivamente può dare a molte persone sono allergiche quindi la flore certo no io mio figlio mi dico a domani mi ha detto che non ha fatto il pacifico che consiglia tutti fanno il serologico prima se l'hanno mangiato sì ma il serologico non mi interessa nessuno che se l'ha detto in queste camorate allora il test serologico la ricerca degli anticorpi dimostra se una persona è immune se una persona è immune io appunto ho fatto per più di 30 anni il medico vaccinatore se qualcuno mi veniva dicendo ma che faccio devo fare il richiamo antitettanico vediamo no hai gli anticorpi sei a posto torna tra qualche anno guarda c'è ancora un titolazione abbiamo sempre fatto così morbillo la rosolia hai gli anticorpi basta sei a posto non devi vaccinarti anzi vaccinarti potrebbe indurti delle reazioni eccetera quindi ormai si sta andando contro la logica contro i dati della scienza eccetera no non interessa tanto al potere avere una popolazione immune interessa avere una popolazione vaccinata certo sei immune perfetto bene sono tranquillo anzi risparmiamo un vaccino che costa anche soldi lo usiamo per qualcun altro invece non interessa non interessa avere una popolazione immune interessa avere una popolazione vaccinata c'era un signor anzi dirigito il traffico c'era prima la signora radiera parla vociante comunque la mia è una non è tanto una curiosità è un modo per rispondere a quelle persone che ancora che sono ancora che vacillano per la sperimentazione allora mi fanno questa domanda mi spiega allora la spagnola mi spiega volevo dire ancora io lì mi sono andata per quello che è la mia possibilità documentare e ho visto che la spagnola hanno detto lei è un ricercatore è uno studioso in merito mi può dare una risposta se è vero che dicono che sono stati i soldati americani che essendo stati vaccinati hanno apportato loro la spagnola quindi io volevo dare questa risposta però non essendo sicura al 100% la porgo a lei ecco non ne erano stati allora anche qua tirati da una parte all'altra non ne erano stati vaccinati non c'era nessun vaccino non c'era ancora il vaccino quindi non è vero niente non c'entra niente allora i primi casi ne ho parlato lungamente in quel mio di queste due pandemie i primi casi sono del 1918 sono effettivamente su lati americani poi arrivano in Europa poi ovviamente vicina trincere eccetera eccetera e si diffonde arriva anche in paesi lontani perché anche qua arriva per esempio in India dove fece una strage ma perché gli inglesi mandavano ogni tanto alternavano le truppe mandavano in India in India arrivavano quindi magari contagiate eccetera però la cosa più interessante è la spagnola è che nell'arco di un anno è sparita finita ha fatto strage 70 milioni di morti ma come è arrivata se n'è andata senza vaccini quindi non è vero non puoi incolpare un vaccino non c'è solo nessun vaccino zero ma allo stesso tempo non ci fu nessun vaccino per la spagnola non esistevano e quindi se n'è andata è arrivata e se n'è andata fine e così molte altre epidemie hanno imperversato anche nel 1956 ci fu in Italia una epidemia influenzale asiatica spaventosa che fece centinaia di migliaia di morti nel 68 tutti ricordiamo il 68 per più motivi no? l'invasione di Prada la rivolta sudentesca ma chi ricorda che il 68 fu anche un anno di una spaventosa epidemia influenzale no? perché nulla chiuse eppure ci furono anche lì migliaia e migliaia di morti di questa influenza in Italia ma tutto andava avanti non c'erano chiusure eccetera ed è il 68 tutto ricordiamo purché un anno di una grande pandemia influenzale signore in seconda fine io voglio ringraziare per questo discorso io sono un collega tedesco voglio dire che tutto quello che ha detto siamo più o meno una generazione funziona anche il nostro paese così che è gente consapevole che ha capito una cosa noi rispettiamo quelli che si vaccina volete farlo farlo ma perché voi non rispettate persone uguali semplici ragionevole che per una cosa o altra non vuole farlo alla fine questo tutto green pass è niente altro che una tracola nel senso che certo che non è obbligatorio però senza green pass non puoi lavorare però senza questo infatti non vado a scuola allora è una cosa si sovredica in qualche modo lo deve capire ognuno il Radio Capital ha sentito che noi tutti siamo paranoici e complotisti ma io dico chi è paranoico chi è complotista voi che fate una discriminazione e ne trattate come siamo persone di seconda o noi non volevamo che rispettate noi come persone come sia che voi rispettate e poi la medicina è così che noi non trattiamo malattie noi trattiamo malattie persone allora come ha detto anche voi certamente che per una persona questa cura funziona e non posso dire che solo congratulazione quando ha detto ma qual è il tuo sistema che dai ma come puoi essere così scusa stupido perché noi non siamo oggetti siamo siamo uomini diciamo prodotti biologici che ognuno è diverso e quello ha bisogno di una dosa più grande e quell'altro di più piccola e poi senza altro alla fine quello che non capisco perché Italia adesso in organizzazione OMS ha preso Italia che lui conduce e dà tutte le istruzioni per vaccinazione perché abbiamo un banchero che se voi lo sapete questo era un uomo io lo so personalmente in America lui ha lavorato con la banca Saks Saks è conosciuto in tutto il mondo il tabacca più criminale che esiste quello distrugge uomini frega fa tutto e lui era qui allora il premier d'Italia non voglio dire più niente no no se lo so un pochino prometto grazie anche per aver ricordato che noi non curiamo malattie ma curiamo malati tra l'altro l'ospedale nella lingua tedesca si dice Krankenhaus che è un termine bellissimo perché vuol dire la casa del malato quindi questo è l'ospedale la casa house del malato quindi dobbiamo davvero rifocalizzarci sul malato non sulla sulla malattia mentre appunto tutta la conduzione della pandemia che è in comunicazione mediatica era i casi i numeri ma dietro non ci sono persone quindi grazie per aver ricordato appunto la concezione personalista della medicina è solo una frase scusatemi che voglio dire perché ci vuole anche un po' contra un antidepressivo quando lui mi ha detto ma dottore scusa ma quando si finisce questa cavolata ha detto si si di covid con con lockdown che va in spese siamo in lockdown guarda in questi paesi io ha detto ma scusa come posso dire io sono medico non sono politico buonasera vorrei una sua opinione essendo il nostro collega sul palosso che sta a un livello di guarigione al covid di cui soprattutto in campo sanitario non viene riconosciuta l'immunizzazione e si vuole che vengano vaccinati e sulla mia pelle le dico che sto subendo un procedimento disciplinare proprio per questo motivo perché non intendo sottopogli da immunizzato alla vaccinazione perché mi sembra un paradosso che una persona che si chiama e che questi studi hanno dimostrato la più forte e più prolungata immunizzazione nei guarigli tra mani affiatturati rispetto ai vaccinati intendo subire una vaccinazione quindi con tutti i pericoli del caso perché se non hanno più niente da rimanere dal virus invece o quella che un vaccino mi possa dare niente in più e mi possa invece dare i dratti certo permettendoci questa casa Paolo un buon inciso dal punto di vista normativo all'inizio era stata emanata una circolare dal ministero della salute questa è materia purtroppo quasi quotidiana per noi del comitato dell'associazione consumatore che prevedeva per le persone malate di covid guarite dal covid una possibilità di vaccinazione preferibilmente entro tre mesi non oltre i sei mesi poi questa circolare è stata superata da un'altra circolare che è uscita a maggio-giugno che noi abbiamo ripubblicato anche recentemente in Salafra l'attualità della questione sulle nostre chat sui nostri canali dove appunto veniva modificata la parentesi temporale prevista quindi preferibilmente entro i sei mesi non oltre i 12 mesi con un'unica dose recentemente con il decreto legge 127 si è andato ad operare una discriminazione illogica come illogiche sono quasi tutte le norme che stiamo vivendo da 18 mesi a questa parte per cui la persona vaccinata ha un rimpasso una tessera verde valida a 12 mesi quindi la vaccinazione dà possibilità scusate la vaccinazione dà una possibilità di 12 mesi per essere ripetuta ma la persona guarita dal Covid ha un rimpasso di soli sei mesi andando non solo a contraddire la circolare fatta solo un pochino di saperino dal ministero ma a creare un'ispiegabile credo anche antiscientifica discriminazione tra l'uno e l'altro caso sì assolutamente sì allora tra le varie cose che stanno calpestando tra le varie leggi che stanno calpestando ci sono anche le leggi dell'immunologia che tra l'altro ci dice che gli anticorpi naturali da malattia e gli anticorpi indotti da vaccinazione non sono la stessa cosa io recentemente ho visto un caso chiarissimo ho visto una bambina che ha la leucemia purtroppo ha fatto una terapia immunosoppressiva anche la terapia e questa terapia ha fatto sparire completamente tutti gli anticorpi però quelli di derivazione vaccinale non abbiamo anticorpi antimorbili ma c'era una titolazione ancora anticorpale varicella alta normale nemmeno la chemioterapia è andata a intaccare a diminuire quegli anticorpi naturali tutti gli altri sono spariti tant'è che avevano detto deve rifare tutto deve rifare difterite tetano per dos perché non ha più uno straccio di anticorpi ma quegli anticorpi erano anticorpi appunto di derivazione vaccinale la varicella l'aveva fatta e quegli anticorpi erano rimasti questo vuol dire che c'è una differenza e allora una persona che ha gli anticorpi da malattia noi dovremmo essere tranquilli e dire questa persona vada tranquilla non è protetto allora una logica dovrebbe far sì che le persone con immunità acquisita da malattia sono a posto e non devono fare nulla se proprio vogliamo perché questi anticorpi che ha il collega potrebbero durargli per anni forse anche per tutta la vita come succede con le malattie fatte che ti lasciano un'immunità quasi tutte le malattie ti lasciano un'immunità permanente per cui al limite tu potresti dire chi ha fatto la malattia una volta all'anno può fare un controllo anticorpale e se non hai più gli anticorpi però voglio vedere se non hai più gli anticorpi io ho visto persone con titolazioni anticorpali persone malate fin dai primi fasi della malattia che ce li hanno ancora adesso non dopo un anno e mezzo ce li hanno ancora quindi questo vuol dire che dobbiamo trovare delle prove che smentiscano cioè invece loro come dire il potere se ne frega non importa che tu sei immune in cui è veramente anche una violazione delle leggi dell'immunologia se sono protetto se io ti porto un un esame del sangue un risultato o gli anticorpi basta non ci dovrebbe essere nessuna discussione però qui ovviamente lo stiamo dicendo ma dovremmo davvero avere qualcuno che in sede anche decisionale faccia prevalere il buonsenso e la medicina dire sappiamo che tutto questo queste persone ce lo vengono mettere anche nelle leggi dire il Green Pass è dato in maniera come dire almeno annuale all'ammalato e guarito e poi semmai sottoposto il controllo una volta all'anno vediamo se c'è ancora gli anticorpi se c'è gli anticorpi rinnovo per un altro anno fin tanto che hai gli anticorpi ti viene rinnovato anche se io spero che questa questione del Green Pass finisca perché Green Pass è una cosa assolutamente anticostituzionale e che con la medicina non ha nulla a che vedere assolutamente la signora Giuseppe allora per la questione di gli anticorpi ho chiesto a vari medici ma hanno detto che non è un esame validato come per la varicella per esempio non serve a nulla non li fare non li fare sentire l'ovestipazione non servono a niente non servono dopo ci vorrebbero dei test genetici sugli infuciti che sono molto costosi e non così ma non li forse anche per i medici quindi non solo i cittadini di serie A di serie B ma anche anticorpi di serie A di serie B mi hanno detto che non servono a nulla non è un test variato come per le altre malattie tutto i test non hanno detto no patologi per il covid ci vorrebbero dei test genetici così mi hanno risposto che ci sono anche ma sono molto costosi e difficili da fare perché i lavoratori molto spiegaritati così mi hanno risposto non servono a nulla mi dispiace dirlo ma sono davvero sì sì lo so ebbè sì ma i medici medici generali sono anche loro le sentinelle del regime quelle che devono dire cioè quelli che non hanno curato che hanno curato l'altà che venga allora e poi posso anche un'altra cosa ritornando al discorso di prima dei morti un dottore mi ha detto ti devi praticare ma non tanto perché puoi morire che va bene ma perché il covid lascia un'invalidità permanente e il 15% dei soggetti ah c'è anche la quantificazione quindi è pericoloso dopo è vero che ho conosciuto una ragazza di 44 anni che non si ammalava mai nessuna patologia sempre che il covid ce la prende ancora i vetablocanti perché gli hanno chiamato il mio caso il covid ha detto non si ammalava mai di suezza non prendeva mai nessuna medicina e questo è quanto poi non è stata ricoverata ma come si curate in ospedale adesso devo ringraziare l'ospedale perché comunque non sono finita le animazioni però c'è ancora questa impiannazione del mio cardio che è anche bello portati allora davvero è triste davvero sentire queste cose queste fake news no? perché appunto allora qual è lo scopo del vaccino? lo scopo del vaccino è indurre una risposta anticorpale ti fai anticorpi e non ti ammali qua è una parola scolastico proprio così allora se lo scopo della vaccinazione e la produzione di anticorpi non è inutile cercarli se io ce li ho già perché ho fatto quindi perché non fanno la ricerca per esempio sui vaccinati non fanno mai test non vanno a vedere io recentemente appunto ho visto una infermiera nell'ospedale che era stata mandata a me per fare la vaccinazione antimorbillo perché a un test di routine era risultata non immune perché ogni tanto c'è la sorveglianza la sorveglianza sanitaria andiamo a vedere se sei a posto per morbillo tetano epatite eccetera eccetera guardo tutte le cose che gli avevano fatto e gli ho detto ma non avevano fatto una ricerca anticorpi anticovid così per curiosità ma vaccinato andiamo a vedere se il vaccino ha funzionato bene non lo fanno non c'è questa cosa qua potrebbero farlo magari anche uno dice anche potrebbe essere anche a spese dell'interessato io penso che molte persone lo farebbero volentieri andiamo a fare un test vediamo se c'è quindi non è vero gli anticorpi cioè conoscere la quantità di anticorpi conoscere se ci sono non è affatto inutile significa sapere se sei immune se non sei immune quindi non lo fanno però chissà perché non gli interessa vedere verificare l'efficacia del vaccino non gli interessa non gli interessa verificare l'efficacia della risposta anticorpale che c'è stata nella malattia e invece non è affatto inutile ed è indifferente ti dice se tu hai gli anticorpi per proteggerti da una eventualmente rincontri il virus lo fai ancora no se hai gli anticorpi sei protetto se no come dire sarebbe inutile anche a fare il vaccino a questo punto se è inutile verificare gli anticorpi mi spiego secondo me forse verificare forse proprio quello che non bisogna sapere meglio non sapere niente questi medici di base sono come le scignette quelle che si coprono gli occhi il naso le orecchie non voglio sapere niente meglio non sapere niente e andiamo avanti così diamo per come dire per assodato per fede per puro fideismo che il vaccino ha funzionato perché funziona quindi non andiamo a cercare il controllo degli anticorpi e invece fideismo contrario ti sei ammalata non lo so se sei protetta e comunque anche se ci avessi gli anticorpi non interessa ecco dobbiamo scontrarci con dei fideismi con dei dogmatismi ma cosa vuol dire validato cioè è oggettivo è oggettivo io ho fatto la vaccinazione antitetano cerco se c'è gli anticorpi antitetano si c'è io c'è un valore soglia ma in te non vaccino medistrani covid cioè il vaccino covid allora vuol dire che non so se neanche se funziona no no non è vero perché siccome ci sono dei valori soglia e quelli sono individuati no allora sopra poniamo i 15 tu sei protetto tant'è che c'è scritto nel referto del laboratorio positivo negativo allora vuol dire che c'è un dato oggettivo matematico numeri quanto il valore soglia cos'è 15 tu quant'hai 80 basta è fuffa dire no andiamo a dire i linfociti è un dato oggettivo il valore positivo è sopra i 15 c'hai 80 sei positivo basta chiuso discorso discorso è proprio o così così è bianco e nero vaccinazione selettiva non il basta un vaccinazione selettiva allora vado vado in ordine di alzata di mano c'era la signora Donatella Donatella allora io avrei due domande una riguarda gli anziani che sono quelli più vaccinati in Italia sono sulla terza dose e specialmente nelle RSA sappiamo che ci sono appunto anziani che hanno malattie degenerative neurologiche io ho una madre che ha l'Alzheimer che è stata costretta purtroppo a fare le vaccinazioni ho visto immediatamente il peggioramento della sintomatologia per cui vorrei sapere siccome io ho soltanto riferimenti omeopatici per quello che riguarda la disintossicazione della persona che si vaccina vorrei sapere se ci sono farmaci o integratori che possono aiutare gli anziani che hanno invece questo tipo di patologia quindi neurologica la seconda invece domanda riguarda le persone appunto che hanno fatto la vaccinazione e che vengono contagiate dal covid allora siccome ho seguito sempre le terapie di quei gruppi facebook che si occupano le terapie domiciliari i protocolli erano più o meno sempre gli stessi per chi non era ancora vaccinato quindi l'aspirina l'azitronicina il cortisonrici e l'eparina poi a un certo punto quando hanno cominciato ad ammalarsi i pazienti che erano stati vaccinati invece hanno fatto uno stop e hanno detto che non andava bene quel tipo di protocollo e che quindi c'erano altri insomma altri tipi di farmaci devono adottare però non sappiamo poi volevo sapere appunto se c'è una differenza quindi terapeutica perché è vaccinato e chi no e per dei covid e quali sono eventualmente i trasporti allora negli anziani noi non abbiamo una indicazione precisa nel nel post vaccino come disintossicare quindi non ci sono indicazioni specifiche io direi per un anziano è la stessa cosa l'anziano per fortuna prende già molto spesso appunto farmaci antiaggreganti e quindi magari prende già l'aspirinetta piuttosto che va bene anche un anziano che mi consigliare l'unica veramente sostanza di cui ci sono degli studi che parlano di una certa efficacia è questo famoso esperivit di cui parlavo prima altro non sappiamo e per quanto riguarda appunto le terapie nelle persone vaccinate che prendono il covid anche qua bisogna vedere se il se il covid insorge immediatamente dopo la vaccinazione allora questo vuol dire che non è che è stato sfortunato ha preso il covid proprio mentre ha fatto il vaccino il vaccino non l'ha fatto in tempo protegge il covid diagnosticato da queste persone il covid da vaccino cioè è il vaccino che gli ha provocato il covid mi spiego e allora in questi casi che fai cioè sempre sostanze antiaggreganti antinfiammatorie accisci sui sui sintomi covid fatto da un vaccinato a distanza di di tempo a questo punto comunque lo tratti come un un paziente che non era che non era vaccinato cioè alla fine almeno io per quelli che ho curato ho curato con le stesse cose magari non con l'antibiotico perché evidentemente il covid naturale è magari entrato nell'organismo parassicare o anche batteri e allora dai l'antibiotico per uccidere i batteri in questo nel caso magari del vaccinato probabilmente no però sostanzialmente siccome quello che conta è non tanto uccidere il virus ma fermare gli effetti del virus agisci sempre nello stesso modo comunque con antinfiammatori quindi tutti quelli che abbiamo prima elencato farmaci immunomodulanti come ad esempio appunto l'idrossiclorochina e questo è il modo in cui io personalmente tratto questi covid invaccinati si sento se sentimente può rispondere a cosa sapere si il sas cioè il sas covid2 è stato isolato dove si girano queste cose che non ne ho trovato è stato isolato assolutamente isolato sequenziato perché ancora oggi non è stato no questo 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 è stato se no altrimenti non riuscivano a fare questi questi macini quindi lo sappiamo non è non è più un mistero c'è un libro molto interessante tra l'altro di un professore italo-americano Joseph Tritto che si chiama se non sbaglio covid19 il virus della paura lui stesso l'ha esaminato in laboratorio e tra l'altro descrive certe anomalie di struttura che fanno anche pensare che non sia la famosa chimera di cui parlavano all'inizio no? all'inizio però ma anche qua vedete serve a giustificare tutta una narrazione che collega l'emergenza sanitaria all'emergenza ambientale no? e ci sono state queste cose il passaggio dal bibistrello al pangolì tutte storie lui dice ma l'ha detto anche il professor Montagnetta molto più autorevolmente che ci sono dentro nelle sequenze appunto del virus esaminato sequenziato isolato tutto quanto dice ci sono dentro delle sequenze genomiche che non sono da coronavirus sembrerebbero quelle del virus dell'HIV e in effetti la tesi è che stessero pasticciando per virgolette su questi virus per riuscire a fare un vaccino contro l'HIV poi sfuggito di mano quindi stavano manipolando modificando geneticamente dei coronavirus perché lavoravano sul coronavirus perché appunto è un virus ingenuo è un virus come dire innocuo e quindi dovevano utilizzarlo come vettore ferato per esempio per esempio i vaccini a vettore virale quelli appunto ormai in estinzione l'astrazenica e il johnson & johnson sono così prendono un vettore virale hanno preso un virus un adenovirus di scimpanzè un adenovirus è un virus respiratorio provoca l'hanno gli hanno inserito sequenze del virus del covid e in questo modo hanno fatto questo tipo di vaccino quindi qua è la stessa cosa secondo il professor Pretto stavano lavorando alla produzione di un vaccino per l'HIV quindi hanno preso una base chiamiamola così di un virus tranquillo di un virus come il coronavirus hanno inserito frammenti genomici di altro e poi diceva alla fine è venuto fuori questa bestia qua capite? quindi è come se è stato isolato sequenziato studiato compreso il problema è che fare poi davanti a questo tipo di virus c'è una domanda lì prego signora io voglio toccare la testimonianza ho preso il covid in forma di EVE sono guardita senza anche nulla ho fatto le mie analisi per con il mio senza il suggerimento del dettore di base ha detto che ho speso soldi però mi è detto che il DNA la memoria di questa rimane però un'altra domanda le ho fai per chi so che gli altri che non sono che non rientrano negli standard dei test allergici il medico di base potrebbe fare un identificato che assiene i pazienti che hanno dovuto fare il vaccino non volontario per un video di lavoro allora intanto bene che è guarita bene senza problemi senza stracici è quello che diceva vorrei inizio 97% quindi lei fa parte di questa bella maggioranza silenziosa poi ha fatto bene a fare gli anticorpi quindi il titolo è protettivo giusto se hai capito ecco questo è un bravo medico però è stato onesto perché esiste una cosa che si chiama memoria immunitaria e che io ho spiegato molte volte nel corso degli anni alle persone che magari arrivavano avevano titolazioni basse allora il nostro sistema immunitario ha proprio una memoria ciò nel senso abbiamo sempre detto ma ce lo dicevano dall'alto quando c'era ancora un alto onesto e corretto che ci diceva è inutile che magari fai certo l'ho fatto anche per me stesso a un certo punto io avevo fatto obbligatoriamente tanti anni fa per iniziare a lavorare vaccinazione anti-epatite B poi col tempo il mio titolo anticorpale si è abbassato una volta mi avevo usato un proposto di fare un richiamo però io ho detto ma c'è la memoria immunitaria ho detto esatto e quindi non me l'hanno mai fatto fare cioè nel senso che se io per caso anche se ho un titolo per l'epatite B il limite è 20 sopra i 20 secondo me io avevo 18 però e aveva convenuto il mio collega in un oro se io incontro il virus dell'epatite anche se ho pochi anticorpi circolanti perché questo test mi dice quanti anticorpi ho si chiama appunto titolazione quantitativa che percentuale ho nel mio organismo ma se io incontro per caso di nuovo il virus dell'epatite la mia memoria immunitaria dice fabbrica immediatamente anticorpi per cui immediatamente voilà risalgo risalgo in alto si producono altri anticorpi e sono protetto per cui il suo medico a differenza del medico della signora lei ha fatto una risposta corretta e onesta è un titolo basso ma se tu per caso incontri ancora il covid il tuo sistema immunitario produce nuovi anticorpi e sei a posto questa è proprio una risposta scientificamente onesta e corretta la seconda domanda chi ha delle regime ah si e guarda qui è un problema complesso perché il regime lasciatevelo chiamare così cosa ha deciso inizialmente perché poi appunto cambiano le carte in taglia gioco delle trattavolette no? dice all'inizio era si lo prevedevano la possibilità di un esonero o di differimento esonero io non ho mai visto esonere nessuno manco i moribondi io avevo un amico con un carcinoma terminale ha fatto lo stesso ecco ma cosa prevede la legge prevede a inizio che medico di base e medico del vaccinatore dei centri vaccinali potessero concedere presa a visione di patologie un differimento o un esenzione esenzione non se ne parla neanche è molto illudersi spesso io lo dico però poi hanno tolto di mezzo il medico di base i medici di base hanno non so se ci sono medici di base hanno dei sindacati potentissimi che li proteggono i medici di base dopo un po' di tempo si sono stufati di avere persone che gli chiedevano l'esonero il differimento e hanno detto tirateci proprio da questa grana così poi è cambiato la legge e ora la legge prevede che solo ed esclusivamente quindi lei può anche venirle a chiedere alluminare dell'immunologia eccetera eccetera ma nessuno gli può fare niente cioè se ha delle carte pregresse che dicono che ha allergie che ha qualche patologia eccetera eccetera le deve portare produrre al centro vaccinale dove trova un medico che però ha suo il sindacale del giudizio è stata scoperta da sola questa allergia manipulando l'anidina e l'ammoniaca cioè lei deve avere degli esami visite allergologiche che dicono che lei ha questa allergia se no non viene nemmeno presa in considerazione allora abbiamo pochissimo tempo perché dovevamo vivere alle 18.30 c'è la signora che tiene la mano alzata da tempo le altre mani alzate scusate a tutti non ce la facciamo facciamo due domande e poi gli altri vi segnate qui al tavolo faremo in modo di farvi avere le risposte noi rimaniamo noi siamo in contatto se è necessario siamo la idea voglio capire questo messaggio cioè mi guarda questo video ho tutta questa gente che hanno dubiti sarebbe fino a domani a rispondere le domande a chi si deve rivolgere questo è importantissimo chi uno guarderà questo video ringrazio Gaetano ringrazio Gaetano della domanda Gaetano è della Montefeltro TV una web tv che ci segue sempre con il comitato è sempre molto attiva e presente allora potete rivolgere le vostre domande alla mail e ora basta Marche tutto attaccato piaccela gmail.com oppure se volete lasciate i contatti qui al tavolo dell'accoglienza i vostri numeri di telefono la vostra mail ci mettiamo in contatto con voi vi facciamo entrare nei nostri canali telegram non riescono a trovare anche dei professori magari a pagamento in teleconferenza eccetera perché sarà difficilissimo anche noi avere una consulenza a distanza non è che abbiamo il professore sotto calma allora intanto alle domande generali che sono state poste qui e quelle che non riusciamo a devavere stasera risponderemo grazie a Paolo grazie ai colleghi che sono in contatto con noi poi per quanto riguarda la rete di medici sul territorio questo comitato è attivo da molto tempo abbiamo i buoni contatti che stiamo comunque cercando di incrementare la signora io avevo fatto una domanda su quella più importante il discorso della relazione di sangue della relazione del sangue del fascinato che proteggono del sangue da notte del fascinato e lui ha chiesto se appunto permette come il fascinato ha arrestato e se lo fanno detto di sì lo posso fare dopo una settimana della vaccinazione e ha chiesto anche se possono il sangue se queste persone hanno tutti i cuori non lo fanno perché è inutile perché il cuore non si è traslitto del sangue però a me mi preoccupa il discorso di i propri perché si sa che i propri si ho capito chiudo e sintetizzo allora non esistono allo stato attuale screening su quelle che sono le donazioni di sangue non ci sono verifiche una settimana francamente contraddice quello che si è passato un protocollo nel passato sulle vaccinazioni ma anche vaccinazioni normali io mi ricordo molto spesso ho fatto vaccinazioni in adulti anche donatori e c'era sempre comunque anche da parte dei centri trasfusionali la Avis stessa spendeva per un mese il donatore perché questo era un tempo anche perché questa è una cosa importante dopo un mese c'è stato c'è avviene fisiologicamente un completo rinnovo del sangue quindi meno male per cui sarebbe opportuno però questa cosa della settimana non lo sapevo ed è oggettivamente troppo breve il vaccinato donatore dovrebbe essere sospeso per le donazioni per almeno un mese se non è fatto è un'altra come dire delle imprudenze di questo nostro tempo imprudenze che nascono comunque da un negazionismo dire tanto non succede niente tanto va tutto bene questa è una cosa che posso dirla perché appunto le norme sono sempre state queste nella sospensione del buon vaccino grazie l'ultima domanda Antonella io volevo chiedere se uno entra nel film delle vaccinazioni dicono che poi riesce a vincere le cellule della memoria e altri porti della memoria con un'unice di sveglione quindi se però a un certo punto decidesse di interrompere il ciclo orale che viene a un posto secondo lei cosa può andare incontro o può rigenerare oppure può rassurare il ciclo vaccinale allo stato attuale è due dosi la terza dose è un'ipotesi tra l'altro che in questa più ritmo non è prevista l'ente food or drug administration sta dicendo no non si vede la necessità sta agendo un pochino più coscientemente dalla serie se ci sono gli altri corte non c'è nessun bisogno di fare una tattose di richiamo ma quindi per dire lei mi dice se io inizio un ciclo vaccinale il ciclo è di due cioè ne faccio uno non faccio il secondo cosa succede? eventualmente anche non fare il scordo ma eventualmente un futuro terzo perché la mia rispettiva è questa e se uno interrompesse che cosa cioè non va per interrompere perché appunto il ciclo è due la Pfizer nel suo schermo dice due non dice c'è tre quindi con due si Pfizer stessa nella sua scheda tecnica dice io ti garantisco 9 barra 12 mesi però non dice dopo bisogna farmi un test non dice niente è stato un po' ambigua se vogliamo infatti si può leggere in un modo dice se dura 9-12 mesi allora dopo 12 mesi faccio un richiamo ma non è detto anche qua come dire l'autodifesa del cittadino dovrebbe consistere in un faccio un test anticorpale che però l'abbiamo già visto questa sera non viene preso in considerazione contro un'evinenza scientifica perché si dice ho fatto due dosi questo è un titolo anticorpale sono potento grazie non ho bisogno della vostra terza dose arrivederci cioè dovrebbe essere questo ripeto per l'ennesima volta è il concetto dell'immunizzazione sono immune o non sono immune per malattia per vaccinazione sono immune basta arrivederci non ci vediamo più fino a quando non mi ho eventualmente bisogno ma questa cosa dovrebbe trovare qualcuno non lo so anche a livello politico che si facesse l'atore di questa richiesta di dire dobbiamo riconoscere l'immunità delle persone immunità da malattia immunità da vaccino e fin quando sono immune è anche un discorso economico dovrebbero anche apprezzare vi facciamo risparmiare non vi facciamo buttare via dosi perché se io ho una titolazione di mille che bisogna fare un vaccino mandate il mio il mio vaccino a qualcuno più bisognoso se ne avesse richiesta se ne facesse richiesta risparmiate questi soldi tra l'altro sono anche costosissimi perché tra l'altro Pfizer ha fatto anche una speculazione passando da 20 a 35 euro alla dose è una cosa assolutamente improponibile tra l'altro allora lungi da me l'avete capito difendere AstraZeneca ma AstraZeneca costava un euro alla fiata Pfizer costava 20 costa 35 quindi allora se io ti faccio caro Stato ti faccio risparmiare perché fin quando sono immune non c'è bisogno di vaccinarli ma anche questo non sembra una preoccupazione sembra non esserci preoccupazioni di ordine scientifico anche di ordine economico spunto spando senza problemi vaccino a tutti indiscriminatamente questo è come dire è la realtà con cui abbiamo che fare fino a quando qualcuno non riuscirà ad ottenere che si possa come dire far valere il discorso dell'immunità sono immune? basta ecco non possiamo rispondere alle altre domande io vi invito a venire qui al tavolo a lasciare i vostri nominativi se volete potete già scrivere la domanda se non ce la mandate per chi vuole io ricordo che noi per fare queste iniziative questi incontri informativi chiaramente sosteniamo dei costi quindi per chi crede è possibile lasciare un'offerta io ringrazio tutti per la presenza per la partecipazione un grande saluto ringraziamento ringrazio appunto il dottor Paolo Guilzano che è stato qui con noi adesso il professore prosegue questo tour di conferenze e va accompagnato da Marco di Rossano dell'ACU a San Marcello a tenere la terza conferenza di oggi grazie 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 grazie